Allora vi potete accomodare, stiamo dando inizio alla seconda assemblea nazionale di liberisti italiani, la prima si è svolta nel 2020 e adesso darò la parola al presidente Andrea Bernardo per l'introduzione, seguiranno poi gli ospiti e poi gli interventi nel dibattito generale. Quindi chi ancora non lo ha fatto e vuole intervenire può venire qui a lasciare il suo nominativo in modo tale che potrà poi parlare quando arriverà il suo turno. Ricordo che possono iscriversi a parlare gli iscritti per il 2022 o per il 2023 perché ci si può iscrivere anche per il 2023 a liberisti italiani. La parola al presidente Andrea Bernardo. Alle 16.30 chiuderemo la raccolta delle iscrizioni a parlare. Salve, si sente? Perfetto. Buonasera a tutti, questa è la sala che ci ha visto fondare i liberisti italiani nel 2020, poi c'è stata immediatamente dopo la pandemia con tutte le restrizioni e quindi c'è stato poco tempo per girare l'Italia. Siamo stati a Milano quando è stato possibile poter riprendere un po' le fila di ragionamento ed oggi siamo qui. Nel mezzo sapete quello che sta succedendo qui vicino a noi in Ucraina. Quindi insomma sono successe delle cose incredibili sostanzialmente da quando ci siamo costituiti a oggi, cose epocali. E quindi era giusto oggi di nuovo incontrarci, questa è un'assemblea di iscritti a liberisti italiani e di ospiti, cioè di coloro che vogliono vedere chi siamo, siamo un po' clandestini in realtà, però io devo dire che i numeri che abbiamo ci danno in crescita rispetto a quando siamo nati, quindi nonostante la clandestinità e le difficoltà per un movimento come il nostro in Italia, i numeri continuano a crescere, non sono numeri incredibili, però rispetto alle possibilità che abbiamo di poter parlare agli italiani sono numeri che ci danno fiducia. Oggi ci sono persone che hanno preso aerei, treni, insomma che stanno arrivando ancora dal Piemonte, dal Veneto io li ringrazio soprattutto quelli che si sono spostati da altre regioni, dalla Toscana. Insomma ogni persona che oggi è qui è un autentico miracolo per quello che ci riguarda, perché comunque noi non siamo un partito del circuito mainstream, non abbiamo posti da spartire né potere da distribuire per cui io vi ringrazio moltissimo per essere qui. Ora, perché siamo qui? Perché esiste liberisti italiani? Ecco, noi oggi ancora dobbiamo con forza, a testa alta, denunciare il fallimento del sistema statalista italiano. Ora, questa denuncia di questo fallimento che è un fallimento di numeri e di dati certi e certificati, non come la stima sull'evasione che invece è un totem del sistema statalista per mettere il cappio intorno al collo dei contribuenti, i numeri veri ci dicono che poi dopo nel corso della giornata saranno specificati nel dettaglio da alcuni dei nostri dirigenti, ci dicono che di fronte ad una sostanziale paralisi del PIL perché il rimbalzo che c'è stato successivamente alla pandemia non fa testo perché essendo il paese che era crollato più di tutti era ovvio che ci sarebbe stato un adeguato rimbalzo, l'Italia ha sfondato il tetto dei mille miliardi di spesa pubblica. Il record del rapporto col PIL oltre il 55% che è una follia senza tener conto di tutto quello che è rappresentato dalla spesa pubblica allargata, cioè dalle mangiatoie dei partiti politici per intenderci, costituite da mille migliaia e migliaia di società partecipate che spesso non hanno addetti, che sono in rosso, che non servono a niente e a nessuno se non ad alimentare il baraccone statalista. ci sono circa 300 miliardi aggredibili per quel che riguarda la spesa pubblica, almeno lo aveva già detto Cottarelli che adesso si è convertito, è passato dalla spending review anche lui ha il totem che il problema in Italia è l'evasione fiscale e ovviamente diventando subito, immediatamente prima è stato cacciato, oggi una riserva della Repubblica in quota PD, ma era ovvia questa parabola avendo così repentinamente cambiato idea e anche obiettivi della sua azione politica. Ecco, a noi alcune cose sono abbastanza chiare, limpide, ed è forse per questo che non ce lo fanno dire dove dovremmo dirlo anche noi, e cioè nel circuito tradizionale. nulla è stato tagliato in questi anni di questo carrozzone, il gettito fiscale diversamente dalla narrazione statalista è sempre aumentato, per cui noi ci troviamo di fronte ad una sostanziale mistificazione della realtà, a cui noi liberali e liberisti siamo abituati, prima dicevamo con Andrea Mancia che è tutta colpa del liberismo in Italia, l'Italia è il paese più statalista tra i paesi occidentali, sostanzialmente un paese dove tutte le libertà economiche sono compresse con l'ipertassazione tra le più alte del mondo sulle attività produttive, ancora oggi noi abbiamo politici, virgolette, quotati che danno tutta la colpa al liberismo. Anche la recente neocandidata alla segreteria del Partito Democratico, Ellie Slane, ha detto che è tutta colpa del liberismo, anche lei si è unita a questo refrain. Ecco, voi capite che noi di fronte a tutto questo non possiamo tacere. Ora, qualcuno a volte mi dice, ma i risultati di questo vostro lavoro militante quotidiano, effettivamente limitando il vostro lavoro, la vostra attività, quando vedrà i risultati? Ecco, questa è una domanda seria che a volte mi pongo anch'io nei momenti di scoramento, però ci sono due alternative. Io penso questo, il tempo passa lo stesso, non è che il tempo si può accelerare o rallentare, il tempo passa lo stesso, si tratta di decidere se farlo passare dai gnavi oppure farlo passare combattendo. Noi, queste persone che sono qui, i dirigenti, i liberisti italiani, gli iscritti e tutti quelli che oggi sono qui e quelli che ci seguono, che cominciano ad essere diversi migliaia in Italia, abbiamo deciso di combattere e di non far passare il tempo. Speriamo che questi risultati li possiamo vedere presto, ma se anche li dovessero vedere i nostri figli. Noi sappiamo di aver investito bene il nostro tempo e quando ci guardiamo allo specchio possiamo essere orgogliosi di noi stessi. Ora, c'è qui anche Spaziani Testa che successivamente ci dirà come in Italia, ma adesso anche in Europa viene aggredita costantemente la proprietà privata immobiliare. A Roma, ieri è arrivata la notizia che probabilmente l'Europa, la cattiva Europa, perché poi qui c'è anche da discutere sui rapporti con l'Unione Europea, perché noi vediamo che a volte i governi italiani per ottenere finanziamenti spesso elaborati sulla base di tesi costruttiviste, dirigiste che noi respingiamo, però pur di ottenere questi fondi che poi molto probabilmente andranno nelle fila dello Stato, del parastato e rimarrà poco o nulla per l'economia reale, accettano di arrivare a determinati compromessi con l'Europa. Ora, l'Europa spesso si infila in cose in cui non dovrebbe assolutamente farlo, perché noi abborriamo lo Stato come entità soffocante delle libertà, così come il super Stato soffocante delle libertà. Però su una cosa l'Europa probabilmente ha ragione, su una delle cose su cui ha ragione, è che in Italia occorrerebbe tagliare la spesa pubblica e fare le liberalizzazioni dei servizi. Bene, su questo punto in particolare, come ad esempio fare le gare qui a Roma per liberalizzare il servizio del trasporto, come quello dei rifiuti, tutti i partiti politici fanno quadrato per non farlo. Anche i più europeisti, anche quelli che, come dire, inneggiano alle istituzioni europee come Panacea e tutti, ma quando si tratta di andare a incidere su quello che effettivamente è il loro bacino, direi, elettorale e l'emanazione del loro potere locale e territoriale che gli consente poi di poter esprimere i propri RAS nelle istituzioni locali, perché di questo si tratta, e allora quando si arriva lì c'è lo scudo. Il sistema del partito unico, del più Stato, fa quadrato e non gli interessa nulla dell'Europa, non gli interessa nulla se ad esempio Roma, ma non solo a Roma, anche a Milano, i dati sono inequivocabili rispetto al lavoro delle municipalizzate, rispetto a quello che potrebbero fare le migliori eccellenze del privato attraverso gare, però quando si arriva lì c'è il muro, c'è il muro statalista. Quindi è un'Europa che va bene quando si tratta di arrivare alla tosatura armonizzata dei contribuenti a livello europeo, cioè la famosa armonizzazione fiscale, che non sarà altro che un'operazione dirigista portata avanti dagli Stati ipertassatori affinché poi non si possa più dire che l'Italia è lo Stato che tartassa di più perché costringeranno anche quelli che oggi stanno crescendo grazie ad una tassazione flat sulle attività produttive a alzare la loro pressione fiscale e quindi in questo modo omogenizzando lo sfascio, allora quando si tratta di questo si mettono d'accordo. Quando si tratta però di andare ad alleggerire il carrozzone, no, lì fanno quadrato e non gli interessa nulla se a dirlo sia l'Unione Europea che da molti di questi viene appunto indicata come la panacea di tutti i mari. In questi due anni io ci tengo a dire queste due cose perché hanno un po' scassato non solo le menti di tutti quanti ma anche l'area nostra, l'area liberale. Sono successe due cose fondamentali oltre allo sfascio economico e ai numeri che poi più avanti alcuni di noi credo enrico ma anche altri vi diranno in maniera chiara. C'è stata la pandemia con gli obblighi vaccinali e c'è stata l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ora, all'interno del nostro ambiente ci sono state varie posizioni che sono state espresse però io ci tengo perché so che poi qualcuno interverrà a dire qual è la posizione ufficiale del movimento perché deve essere chiaro che poi chiunque interviene sui punti interviene e lo fa a titolo personale. Sugli obblighi vaccinali noi ci siamo messi subito contro. non esiste che un governo possa obbligare taluno a un obbligo vaccinale. Noi siamo stati sempre per la libertà di scelta abbiamo visto come il modello inglese che non ha previsto alcun obbligo sia riuscito ad ottenere gli stessi risultati di quello italiano senza coartare la volontà delle persone e quindi abbiamo sempre ritenuto che l'obbligo vaccinale fosse in qualche modo una conseguenza negativa del modo di governare questo paese e di questa spinta statalista liberticita che quindi ha trovato nella pandemia una valvola di sfogo eccezionale. Questo ovviamente lo dico io che mi sono vaccinato due volte poi ho avuto il covid ma ecco noi siamo sempre questa posizione è stata chiara e ribadita fin dall'inizio e purtroppo abbiamo visto forse sedicenti liberali invece essere promotori degli obblighi vaccinali. Successivamente c'è stato il conflitto in Ucraina anche lì diciamo all'interno della nostra area c'è stata una discussione perché come voi sapete i liberali amano riflettere sono molto individualisti è difficile mettere d'accordo infatti il vero miracolo che stiamo compiendo noi è quello di far stare insieme un po' di liberali che normalmente non ci riescono a stare insieme mentre invece noi con un lavoro devo dire abbastanza faticoso riusciamo a tenere insieme i liberisti i liberali classici e i libertari sull'Ucraina io voglio leggere quello che abbiamo pubblicato perché deve essere chiara quella è la nostra posizione quando arrivano a un certo punto bisogna fare chiarezza noi sosteniamo il principio dell'autodeterminazione dei popoli sancito nella carta delle Nazioni Unite deploriamo ogni aggressione armata ed ogni guerra di conquista attuata da qualunque Stato condanniamo pertanto l'aggressione militare avviata dalla Russia nel territorio ucraino in violazione del diritto internazionale dal 24 febbraio è tuttora in corso invochiamo un immediato cessato il fuoco e di ritiro delle forze militari russe al territorio ucraino sottolineiamo la necessità di promuovere ad ogni livello e in ogni occasione la massima diffusione possibile a livello globale dei metodi e degli strumenti classici di democrazia politica che sono i soli insieme al libero scambio capaci di ridurre al minimo se non a far scomparire i rischi di aggressioni armate tra stati sovrani per evitare in futuro lo scatenarsi di conflitti su territori contesi proponiamo che sotto leggi della sovranità dell'ONU in futuro non durante il conflitto ovviamente con le deportazioni eccetera si possano svolgere referendum che diano alla popolazione del residente la possibilità di scegliere se far parte i regimi di autonomia speciale di uno stato o di un altro ovvero di costituire una nazione sovrana indipendente da ambedue auspichiamo che tale modalità di risoluzione dei conflitti territoriali divenga la regola in ogni altra situazione di contese territoriali nel mondo al fine di prevenire ogni conflitto armato e di realizzare il suddetto principio di autodeterminazione questa è la posizione che è stata espressa e approvata dalla direzione e pubblicata dalle pagine di libro lo dico perché questa è un'assemblea di scritti lo dico agli ospiti è importante arrivare a questi snodi chiarendo alcune posizioni che ci hanno tenuto impegnati in un dibattito molto intenso in questi mesi io vorrei dare spazio al dibattito semmai accorso questo intervento iniziale per poi eventualmente fare delle repliche dopo l'unica cosa che chiedo agli ospiti che interverranno dopo di me cioè a Spaziani è di interrogarsi con me con noi se in questo paese non è necessaria una forza politica come la nostra cioè intransigente che capisce che lo statalismo è nocivo è nocivo per noi per i nostri figli per le nostre attività per l'Italia se non è necessaria una forza politica che non essendo impastata col sistema abbia il coraggio di tagliarlo con la scure liberista che è una scure sana per eliminare quel carrozzone che ci portiamo dietro e che non ci consente in base anche alle statistiche dell'index economic freedom ma di tante altre di essere ancora oggi un paese libero Diamo la parola agli ospiti in ordine di arrivo Andrea Mancia direttore dell'opinione Buonasera grazie sarò benissimo perché si sente no ora si sente sarò breve perché è molto più importante che gli iscritti e l'assemblea in genere svolgano il proprio dibattito con tranquillità io sono solo qui per salutare tutti salutare Andrea soprattutto salutare gli altri ospiti darvi il supporto della nostra testata che è la testata più antica della storia italiana ancora in vita e che è sempre stata nell'alveo liberale e continuerà a esserlo insomma fin quando le forze ce lo consentiranno parto con un ricordo triste perché due anni fa alla prima assemblea nazionale di liberisti italiani c'era il nostro direttore storico che era Arturo Diaconale che manca a noi come manca a tutto il mondo liberale ma sulle cui orme stiamo cercando di costruire il futuro più per i nostri figli come diceva Andrea che per noi io sono scettico di natura e piuttosto cinico quindi non credo di poter vedere la svolta liberista in Italia mi basterebbe una svolta un po' meno statalista rispetto a quella che ho visto nel corso di tutta la mia vita professionale e non questo mi porta a spingervi rispondendo a quello che mi ha chiesto che ci ha chiesto Andrea prima dice ma serve un partito duramente liberista e fieramente opposto alle idee di statalismo che imperano in Italia da quando io ne ho coscienza sicuramente sì è la mia risposta ma serve che i liberali quelli che citava prima Andrea i liberali classici i liberisti libertarian io sono stato un libertarian da giovane poi la vecchiaia mi ha portato verso il liberalismo classico diciamo attutendo le mie asperità ideologiche però serve che i liberali un po' si parlino io ho assistito nella mia carriera migliaia di tentativi di ricomposizione globale dell'area liberale e sono sempre andate male tutte noi siamo capaci noi liberali permettetemi di usare questa locuzione siamo capaci in quattro di fare 15 correnti ho assistito a scontri al primo sangue fra Rodbartiani di destra e Rodbartiani di sinistra fra chi pensa che IUM sia il nostro leader spirituale e chi pensa che lo sia Locke o Hayek o Mises a me basterebbe che i liberali vincessero il loro giusto istinto individualista per provare a concentrarsi sulle cose che li mettono insieme piuttosto che sulle cose che li contrappongono sulla pandemia e sulla politica estera ho visto negli ultimi due anni cose terrificanti cioè gente che veniva dalla stessa università con gli stessi studi con la stessa impostazione ideologica con la stessa carriera professionale non parlarsi più su minuzie e dettagli io questa è una cosa perdonatemi da individualista che non sopporto cioè mi sono stufato di sentirmi dire come diceva prima Andrea che il neoliberismo è la causa di tutti i mali del nostro paese quando so che non c'è stato un quarto d'ora di liberismo in Italia nel dopoguerra e mi basterebbe ripeto forse la vecchiaia che mi fa parlare così ma mi basterebbe invertire la rotta statalista e costruttivista per poi magari puntare verso un liberismo in prospettiva poi ognuno ha la sua idea di liberismo siamo tutti liberali vi faccio questo appello duri cattivi e con la scure la bella scure neoliberista neoliberista no non lo voglio dire neoliberista perché non essendoci mai stato il liberismo non saprei proprio come dirlo però con gli occhi e le orecchie attenti a quello che ci circonda cercando di trovare alleati perché vi do una breaking news i liberali non i liberisti che sono una sottocategoria i liberali in Italia non sono maggioranza e probabilmente non saranno mai maggioranza cerchiamo di essere una categoria forte e intellettualmente pronta e vincente però lo sappiamo cioè dobbiamo trovare degli alleati non possiamo continuare a predicare nel deserto da soli se poi persino fra i liberali ci tendiamo a dividerci quindi il mio appello è duri cattivi concreti con un occhio alle nuove generazioni perché questo non mi stancherò mai di ripeterlo ma cerchiamo alleati per fare anche un pezzo di cammino insieme secondo me nella destra italiana che è semplicemente un po' meno costruttivista e totalitaria della sinistra italiana secondo me nella destra italiana se sappiamo cercare qualche alleato anche di breve periodo è possibile trovarlo è difficile è complicato ma non possiamo fare altrimenti no no è quello permette in genere la destra di essere maggioranza nel paese diciamo è tutto merito della sinistra mettiamola così perché meriti della destra ne vedo pochi cerchiamo alleati cerchiamo di guardarci intorno e cerchiamo di concentrarci sulle cose che ci uniscono rispetto alle cose che ci dividono ultimo appello e poi lascio la parola agli altri ospiti in America in questi minuti si sta svolgendo una battaglia per il destino del pianeta che è quello sulla libertà di parola c'è un pazzo che ha speso 44 miliardi di dollari per comprarsi un giocattolo io non credo che voglia farci i soldi perché non ce li farà ma quello che sta facendo Elon Musk adesso con Twitter e quello soprattutto che sta facendo tutto il resto dell'informazione dell'iTech e della politica per impedirgli di riliberare una cosa che era oggettivamente un simbolo di libertà coinvolgerà noi tutti perché non è soltanto in atto una battaglia per la conquista di Twitter in sé cioè Twitter in sé non ha i numeri di Facebook non ha il volume d'affari di Facebook non è importante come Telegram o come TikTok adesso o qualsiasi altra cosa negli ultimi anni si stia sviluppando o si svilupperà in futuro ma sapere che c'è una persona che non per profitto perché sarebbe ridicolo pensarlo sta combattendo una battaglia per la libertà di parola negli Stati Uniti in cui la libertà di parola grazie al primo emendamento è diventato un simbolo e ci è stato tolto perché è stato tolto a tutti da sotto il naso alle ultime elezioni presidenziali io non sono un trampiano ma quello che è successo alle ultime elezioni presidenziali grida vendetta di fronte a Dio e di fronte agli uomini se voi avete otto dollari dopo che avete comprato la tessera del partito liberista per quest'anno e magari anche per il prossimo dateli per avere la spunta blu su Twitter perché è in gioco qualcosa di più grande dell'esistenza di uno dei tanti colossi dell'Aitec che ci stanno ma è in gioco da libertà di tutti quanti grazie grazie ad Andrea Mancia grazie all'opinione che è sempre stata vicina al nostro movimento adesso la parola ad Andrea Ruggeri un nostro amico di vecchia data che è già stato presente nella nostra assemblea di fondazione del febbraio 2020 già parlamentare di Forza Italia e comunque una persona estremamente attiva nel campo liberale ci dispiace Andre che non possiamo questa volta vederti sugli scranni di Forza Italia beh va beh buongiorno a tutti intanto mi dispiace molto anche a me onestamente detto non so se si sente perché c'è questa cosa che i palchi li fanno per tutti quelli un metro e settanta un metro e settantacinque poi se uno ha la colpa di essere un po' più alto deve prendersi il microfono in mano a me mi dispiace molto Andrea lo sai ci tenevo a tornare in Parlamento perché comunque la mia esperienza è stata incompleta e quindi dal mio punto di vista è inutile poi vabbè adesso ci passerò anche sopra durante il mio intervento intanto buongiorno e grazie dell'accoglienza è veramente fantastico vedere quante persone appunto come ricordava Andrea Bernardo ancora abbiano voglia di incontrarsi dal vivo a parlare di come si può risolvere uno dei mille problemi che c'è in Italia cioè quello che informa la mala politica italiana cioè lo statalismo dirigista di cui fatichiamo moltissimo a liberarci tre anni fa ero qui con voi promisi a tutti voi di innalzare il coefficiente liberale del partito in cui avevo per scelta militato interrompendo la mia precedente professione che tanto mi piaceva il direttore diagonale già ricordato dal brillantissimo direttore Mancia mi obiettò citando Alfredo Biondi un altro grande liberale che dice Andrea Forza Italia non sarebbe un partito liberale di massa nemmeno a Carrara gli fece questa battuta aveva ragione io oggi vengo qui a rendergliene atto anche se lui oggi spero ci ascolti ma non è più con noi poi arrivò la pandemia che fu teatro di limitazioni sovietiche illogiche secondo me addirittura anche illegittime venne dichiarato un lockdown via Facebook senza nemmeno scomodare uno straccio di dibattito parlamentare poi vennero tutte le altre misure folli perché condannarono e la salute e l'economia stracciando ogni diritto di libertà individuale ma questo è tipico di uno stato che vuole fare tutto senza saper fare nulla lo stato più caro del mondo occidentale lo stato di cui appunto Andrea Bernardo ricordava una spesa che sfonda 4.000 miliardi raddoppiata negli ultimi 10 anni ora francamente scusate i risultati di questa spesa così raddoppiata in 10 anni li vedete tutti quanti ma insomma quello fu un periodo per me veramente molto avvilente e perché poi si dimostrava che lo stato invadente vorace quasi dittatoriale poi alla fine chiamato a gestire un'emergenza non si è per organizzare nulla non lasciò aperto con il distanziamento le mascherine ma consentendo all'Italia di salvarsi a meno il portafoglio dei posti di lavoro no invece la cosa più stupida e semplice ma anche la più banale e dannosa che si potesse fare tutti a casa chiusi a contagiarci l'un l'altro perché a casa poi con la mascherina col cavolo ognuno di noi girava con la moglie a un metro dalla mascherina forza Italia allora la domanda di Andrea Bernardo ma serve un partito fieramente duramente intransigentemente liberale dunque liberista dunque libertario no no non è che serve è indispensabile ed è indispensabile perché proprio oggi che abbiamo un neonato governo di centrodestra se tu vai a vedere chi lo compone come si comporta o come si è recentemente comportato capisci che c'è una crescentissima domanda elettorale di liberalismo cresciuta proprio durante la pandemia per fortuna e però degli attori che sono del tutto distanti dall'interpretarlo e degli interpreti che sono totalmente bolliti nella migliore delle ipotesi forse Italia quando io protestavo per i semi lockdown i coprifuochi e tutte quelle stupidaggini che ci hanno imposto comunicandoci senza nemmeno dibattiti parlamentari non solo non obiettò a nulla e sostanzialmente si dichiarò a favore ma mi bollò pure come il capricciosetto che era in astinenza da aperitivi questo era ok e ovviamente io insomma non è che voglio sputare sul piatto in cui ho mangiato però sono qui anche per dirvi che quella promessa che vi feci tre anni fa io l'ho clamorosamente fallita io ho tentato di portare in forza Italia diciamo un coefficiente di libertà maggiore di predicare l'avvento di facce nuove capaci di interpretare domande e bisogni del mondo che cambia che è molto cambiato anche solo negli ultimi dieci anni e di cambiare il linguaggio beh tutto questo insomma è stato liquidato diciamo da un partito dove i protagonisti sono sempre gli stessi e pensano solo a perdere conservando il loro posto o di qualche amichetto imbarazzante un partito che da liberale che è nato è finito a difendere i tassisti e balneari anziché dire cazzo noi vogliamo più opportunità per tutti noi vogliamo difendere quelli che prendono il taxi non chi guida il taxi vogliamo difendere l'opportunità di chi nasce povero di potersi dare un lavoro perché no facendo l'uberista il venerdì e il sabato sera come avviene in tutto il mondo vai a Miami in Florida dove governa un liberale probabilmente il prossimo presidente degli Stati Uniti di America Ron De Santis e vedi che ti prende un venezuelano che dopo sei mesi che è a Miami ancora non parla americano ma com'è possibile ma guardi lavoro molto non ho tempo comunque lo sto imparando ma mi racconti la sua storia niente sono scappato dal regime di Maduro il lunedì martedì sono arrivato qui mercoledì ho fatto un colloquio con Uber giovedì col contratto firmato ho avuto un finanziamento per comprare l'auto sabato ho cominciato a lavorare guadagno 5.000 dollari al mese secondo voi secondo voi quell'immigrato perché è un immigrato è più o meno integrato di quelli che vengono da noi è un ragazzo che nasce povero anche se non è immigrato si emancipa prima cresce prima diventa più responsabile attore consapevole di una nazione che vuole creare ricchezza e non si scanna solo per distribuire le briciole oppure no allora cosa deve fare un partito liberale o che si professa tale difendere i tassisti o difendere chi prende il taxi e difendere l'opportunità di chi ha poco arrampicarsi sull'albero della vita tramite il lavoro perché no l'inizio fatto anche da driver di Uber quindi questo perché ve lo racconto perché purtroppo quando un partito che nasce liberale muore corporativo rifiuta di rinnovarsi rifiuta la brillantezza la scambia per un pericolo allo status quo di quattro coglionelli come li chiamo io neanche colonnelli che sono lì da trent'anni e che non hanno uno straccio di idee perché poi finiscono a fare l'8% mica per caso non è che è un complotto e allora obiettivamente caro mio sì c'è indispensabile bisogno che nasca qualcosa di nuovo anche perché guarda da noi le porte sono aperte ma io ti ripeto adesso io vedrò quello che devo fare io in vita mia vi voglio far fare una risata però perché io sono stato fatto fuori insomma da due pippe che forse l'Italia l'hanno abbastanza affossata basta leggere i risultati elettorali negli ultimi 5 anni poi l'hanno anche difesi sistematicamente perché la loro mentalità baronata è quella appunto di difendere il proprio posto punto e basta però il liberalismo ragazzi forse Italia è in buone mani e adesso vi faccio sentire nei mani di chi? feci una promessa a mia moglie e lo ribadisco con l'occasione per dirlo che non mi avrei più candidato perché per dedicare più tempo alla mia famiglia questo è il senatore di forse Italia è uno dei 18 senatori di forse Italia quindi insomma le vostre istanze sono in buone mani diciamo secondo me ecco comunque insomma in sintesi forse Italia non mi ha ascoltato però l'ha fatto Giorgia Meloni Giorgia Meloni in pandemia proprio in pandemia ha cavalcato diciamo quell'istanza crescente di liberalismo libertario e ha fatto il botto è passato dal 14 al 26% nel giro di due mesi ora però sono al governo e la prima cosa che bisogna fare è qui si parlano abilitate del nuovo governo e qui si capirà se c'è lo spazio oppure no che tutti voi direttore compreso giustamente invocate reclamate allora c'è da ridisegnare il rapporto tra Stato padrone e cittadino beone perché in Italia purtroppo va così e però questo lo si fa con delle riforme liberali che devono essere ispirate alla promessa peraltro fatta da Giorgia Meloni campagnetta di non disturbare chi vuole fare non è inchiodandomi francamente al dibattito sui reib e sulle occupazioni che secondo me si va in quella direzione vorrebbero autorizzato un'occupazione è in corso ci mandi la polizia due manganellate e sgomberi punto e basta ma non tieni il dibattito inchiodato due mesi su una roba del genere secondo me perché purtroppo diciamo così a riavvire Trevelle ma se c'è dei progetti fermi da 2014 perché mancano autorizzazioni il tuo problema si chiama burocrazia quindi devi aggredire anche quella cioè devi cominciare a mettere in pratica i comandamenti che hai giustamente invocando in campagna elettorale è vero che l'evasione viene sempre presa come una una scusa per appunto se voi non si ha detto che cosa è una stima no a parte che la stima spanne a parte che l'evasione zero non esiste in nessuna parte del mondo a parte il fatto che l'evasione si che si può combattere abbassando le tasse e rendendole più semplici da pagare però abbiamo visto con la città secca sugli affitti però potrete confermare Giorgio Spaziani testa cioè noi avevamo un problema di evasione sugli affitti residenziali che più o meno occupava un miliardo e mezzo di euro ogni anno introdotta la città secca sugli affitti che tutto sommato è piatta facile e contenuta quindi anche ritenuta giusta guarda un po' si è trimezzata attendo che lo si faccia anche sugli immobili commerciali ma detto ciò voglio dire quello è un precedente che ci dice dove è la prua che dobbiamo puntare facilità riduzione del peso dello Stato quindi maggiore libertà individuale anzitutto economica e poi vedrete che l'evasione si asciuga dopo di che il problema è ma se lo Stato recupera ogni anno 12-16 miliardi di euro dell'evasione e non calano di un grammo le tasse che cazzo ci fa con i soldi perché io sono sicuro che se io fossi premier dell'Italia la prima cosa che l'hai detto appena hai detto sarebbe stato signori miei allora signor l'evasione farò guerra in questa maniera cioè rendendovi più conveniente per il facile pagare le tasse restituendovi possibilità di spesa e di investimento dopodiché vi giuro che ogni euro che recupererò dalla lotta all'evasione lo metterò solo sull'abbattimento della pressione fiscale io queste cose non le sento ancora dire nemmeno dal centro-destra al governo ma è veramente adesso a me sono sfuggite persino le parole invece lei sarà più attento di me ma benissimo era forse il caso di cominciare diciamo come dire a fare un patto con i contribuenti e poi e poi signori miei quello che diceva Andrea Bernardo tagliare la spesa pubblica questo non ho manco mai sentito dire onestamente neanche promettere ma la spesa pubblica che è raddoppiata negli ultimi dieci anni facendo raddoppiare anche la povertà quindi diciamo non risolvendo niente neanche a livello sociale va per definizione tagliata ma non è possibile che non si trovino 35 miliardi per tagliare seriamente il culo fiscale non solo a chi guadagna meno di 35 mila euro lordi perché se ne guadagni 40 non sei ricco questo è il punto il punto è che tu devi avere un partito liberale di massa molto comunicativo con gente che sappia capire qual è la superficialità anche diciamo dell'opinione pubblica e saperla mi piace scusare sfruttare ok che vado a dire che basta in Italia bisogna fare i soldi bisogna fatturare e per farlo bisogna tagliare le unghie uno Stato che ci fotte un sacco di soldi si candida a fare tutto non sa fare nulla come appena dimostrato in pandemia e ci costa troppo ma non è una cosa difficile da fare bisogna semplicemente avere la volontà politica di farla e le idee perché non è che si può dire semplicemente alziamo le pensioni perché abbiamo una curva anagrafica che anche lì bisognerà interrogarsi signori no? comunque io voglio tornare sulle riforme perché ripeto per me la spesa pubblica è il taglio della spesa pubblica è la prima cosa da fare per creare risorse da poi investire in tutto quello che serve fare cosa serve fare secondo modestamente perché in Italia secondo me non sono Winston Churchill ma anche qui serve a rispondere alla tua domanda e a dire lo spazio c'è? beh c'è nella misura in cui gli attori principali del centro-destra e Renzi con Calenda non riusciranno a soddisfare il calendario obbligatorio che potrebbe cambiare la faccia d'Italia se non sapranno farlo Andrea allora sì ci sarà lo spazio ma che sarà sfruttabile le condizioni di qui sopra perché oggi i ragazzi purtroppo che piacciono la politica non è più territorio non è più clientela è anzitutto comunicazione noi guardiamo gli ultimi boom elettorali i 5 stelle non mi pare abbiano mai avuto una struttura sul territorio e hanno fatto il 33% in nome di una grande idea per me orrenda orripilante il reddito di cittadinanza e di un claim diciamo abbastanza intuibile da chiunque vaffanculo sostanzialmente però sono arrivati al 33% per quello prima di loro c'era stato Matteo Renzi che una struttura sul territorio l'aveva ma bene o male era la grande novità della politica di un'area giovanilista liberale insomma più o meno abbastanza più liberale di tanti altri più liberali sicuramente di tanti amici nostri e dopo Lorenzi e Di Maio è stato il turno di Matteo Salvini adesso è il turno di Giorgia Meloni non è che nessuno di questi abbia fatto investimenti sul territorio o il pieno di preferenze sono grandi comunicatori che hanno un'idea forte sexy che sanno parlare a tutti dimostrando anche di considerare tutti quanti e che però insomma quindi hanno un'occasione ora se non sapranno diciamo coglierla sicuramente di occasioni ce ne saranno anche altre però sempre sempre con quei crismi tu dovrai andare a cercare di raccoglierla quindi insomma diciamo non è con gente bollita che ha ripeto la massima ambizione soltanto di perdere conservando il posto che la coglierai comunque dicevamo allora quali riforme per uno Stato che ci costa troppo che perde una lita tributaria su due perché peraltro in cui si consuma diciamo un processo a carico del contribuente con una presunzione di evasione a carico del contribuente che si deve lui giustificare e deve provare la liceità dei suoi problemi è una roba da pazzi uno Stato che ogni giorno arresta ogni otto ore tutti i giorni che Dio manda in terra e arresta ingiustamente un suo cittadino che reclude e che viene immancabilmente assolto senza poi ovviamente dopo che è stato sputtanato gli è stata magari rovinata l'attività la vita sociale quella familiare senza neanche chiedere scusa mentre i suoi pigoni che fanno questi errori questi orrori nemmeno soffrono diciamo un intoppo nella loro carriera vanno avanti tamquam non est come se avessero fatto bene il loro lavoro in questo quadro obiettivamente è difficile chiedere ai cittadini di avere fiducia soltanto un suddito cieco e intimorito avrebbe fiducia in uno stato così inefficiente e vorace allo stesso tempo però le riforme che vanno fatte vanno fatte in fretta e vanno fatte tenendo conto di un altro aspetto che mi ricollega a quello che diceva il direttore Mancia guardate che se ci riflettiamo il mondo occidentale in particolare cioè la parte migliore del mondo in assoluto vede una crescente domanda di individualismo dieci anni fa la prima azienda al mondo era la Apple che produceva bene i telefonini che peraltro hanno disintermediato l'informazione ufficiale non so se abbiano fatto del bene o del male la battaglia a cui alludevitù è giustissima perché riguarda il free speech e l'America porta bandiera insieme all'Inghilterra di questo diritto ha colorato le nostre coscienze occidentali con questo diritto io esco da qua e te lo prometto spendo 8 dollari per la spunta blu 100% però voglio dire dieci anni fa la Apple era la prima azienda al mondo perché produceva bene di consumo oggi la prima azienda al mondo non produce niente consegna beni ed è Amazon che cosa ci dice questo? ci dice che ognuno di noi ormai ragiona un po' da consumatore perché siamo noi a decretare il successo di queste aziende dipende solo da noi ma dice anche che ognuno di noi vuole una vita su misura e questo non non è che esclude la politica da questo discorso ognuno di noi ormai e sarà sempre di più così almeno in occidente vuole un'offerta politica su misura io sono la partita IVA sempre stato peraltro orgogliosissimo di esserlo però obiettivamente signori scusate ma noi possiamo continuare a chiedere alle partite italiane di essere massacrate senza che peraltro abbiano le stesse garanzie dei dipendenti molte incertezze in più un problema con la pensione gigantesca come noi chiediamo oggi alle gestioni separate il 25% di contributo obbligatorio pensionistico per una pensione che non avranno mai o che avranno a 75 anni o con cui si comprano un pacchetto di sigarette ma perché non ragionare su come liberarli per esempio da questo obbligo cioè voglio dire non so come dire direi chiudo io mi aspetto da questo governo e poi andrei capiremo se ci sarà lo spazio di ci o no una riforma esiziale del fisco una riforma esiziale della giustizia uno svecchiamento di una pubblica amministrazione che in Italia ci rende schiavi perché la libertà economica che parlava Andrea Bernardo si declina anche a favore di chi ha poco pensando che se quell'altro apriranno un'attività e gli chiedi 70 autorizzazioni burocratiche non sei libero di fare una cosa o di inventarti un lavoro se non lo trovi lo puoi fare se hai il tempo e i soldi per aspettare ma una pubblica amministrazione che ha un'altra media 53 anni e che ha un'altra beta digitale secondo me non ha quel crisma che può garantire un'accelerazione di uno scambio purtroppo così invasivo tra cittadino privato e pubblica amministrazione come è in Italia quindi la devi riformare la burocrazia idem aumentiamo i silenzi assensi voglio dire rendiamo l'Italia una nazione facile scuola e università perché non è più ammissibile e questo riguarda anche la base contributiva delle pensioni di un paese che invecchia e non promette un'inversione nella normalità non è pensabile che i nostri giovani escono a 24 anni e tutti gli altri e 22 e allora è anche ipotizzabile che ci siano da qui a 10 anni i lavori nuovi le start up nel mondo assumono tutti i laureati in fisica e noi alla Bicocca a Milano abbiamo quest'anno 10 iscritti dov'è la politica che pensa quali saranno i nuovi lavori e dice signori l'istruzione si adegua in funzione di quello che io intravedo nel futuro per voi di qui a 10 anni e dunque levo un anno di liceo levo un anno di università riformo il corso di studio vi metto in grado se voi siete ricchi o poveri non mi interessa di una volta usciti non sentirvi dire non ti hanno insegnato niente dovresti pagarmi tu perché ti insegno un lavoro questa roba bisogna fare e poi anche le pensioni siamo un paese che è vecchia viviamo più a lungo per fortuna ho chiuso scusate la lunghezza ma mi provo di fare un po' di sassorizia bene comunque insomma e poi c'è come avere tanto altro ma comunque comunque mi auguro di ascoltare tutti gli interventi che ricalchino l'indispensabilità di un movimento del genere che richiede interpreti nuovi cercateli e li troverete vedrete in bocca al lupo la prima volta hai parlato tre minuti la seconda volta hai parlato quasi mezz'ora credo che successivamente ti iscriverai al partito bravo grazie la parola al presidente di confederizia al nostro grande amico una come gli ho detto quando è arrivato prego presidente è una delle poche persone che rappresenta qualcosa di importante in Italia con cui sottoscritto ha delle affinità politiche prego grazie devo essere breve perché ho paura in effetti di quel gesto che è arrivato cattivo ma io tanto non sarò non potrò essere brillante come come l'amico Ruggeri e neanche interessante come l'altro amico Mancia direttore Mancia però insomma qualcosa voglio dire anche io intanto ringraziare per l'invito per essere stato invitato anche oggi qui come due anni fa tre anni due anni fa inizio inizio 2020 poco prima come diceva Andrea Bernardo quel disastro che tutti abbiamo vissuto e rispondo subito alla domanda perché ci ha dato il compito e anch'io naturalmente rispondo positivamente dico che è assolutamente necessario Andrea Ruggeri dice essenziale forse essenziale ma è assolutamente necessario che ci sia questo impegno questo partito in transigente questa forza politica e aggiungo che vi ringrazio io ringrazio Andrea Bernardo per averla promossa ringrazio tutto il gruppo dirigente ringrazio tutti coloro che partecipano attivamente in presenza come si dice ora ho notato prima i rumori mentre tu parlavi erano perché si allargava la sala la conosco bene questa perché in confidilizia come confidilizia facevamo qui le nostre riunioni quando non avevamo la nostra sala in Audi nella nuova sede quindi è stata allargata perché è arrivata nuova gente ed è molto importante ma è fondamentale che ci sia questo questo movimento non so quale sia il termine da utilizzare corretto e non è da diciamo tu hai parlato prima di clandestinità io prendo appunti sui biglietti da visita per vostra fortuna poi non riesco a leggere quindi non dirò tutto quello che mi sono insegnato ma parlare di clandestinità ma io penso che non bisogna abbattersi se c'è clandestinità ovviamente bisogna puntare ad avere più visibilità così come non bisogna avere l'ossessione probabilmente non ce l'ha nessuno qui intendiamoci però lo dico così preventivamente dell'approdo parlamentare perché abbiamo esempi storici anche di movimenti che hanno fatto molto all'esterno del Parlamento penso ad esempio ai radicali ma anche ad altri ma faccio l'esempio anche faccio il paragone anche con una organizzazione di categoria come siamo noi con fedelizia all'associazione storica della proprietà immobiliare e come ci ha riconosciuto Andrea Bernardo più di una volta un po' diversa dalle altre perché naturalmente fa le sue attività fa le audizioni parlamentari fa la sua assistenza agli associati attraverso le associazioni territoriali però insomma è appassionata di libertà e anche io voglio ricordare una persona perché l'abbiamo salutata abbiamo salutato un campione di libertà quattro giorni fa si chiama Corrado Sforza Fogliani ed è stato presidente della confedilizia per tanti anni e da ultimo era il presidente del centro studi e lui ha così segnato la direzione e il solco di un'associazione che non deve essere solo un'associazione a tutela di interessi per quanto molto diffusi come sono quelli dei proprietari di casa e di immobili ma anche un'associazione che si impegna su certi temi ovviamente con le convinzioni che si hanno che ha il suo presidente che ha il suo gruppo dirigente o che ha la sua base associativa perché credo che sia difficile che poi cambi una certa impostazione per esempio noi recentemente abbiamo dato vita ad una collana editoriale che si chiama biblioteca della proprietà e che è fortemente diciamo improntata all'idea di libertà che è connessa immediatamente con l'idea di con la proprietà e quindi insomma spero che che questo impegno continui la spunta blu forse la metterò anche io anche se non ne avevo mai compreso il significato del finanziamento ma insomma perché i 44 miliardi tu dici magari saranno finiti però no mi ha interessato molto il riferimento di Andrea Mancia a Twitter perché lui dice non è importante purtroppo però lo sa meglio di me essendo meno popolare è importante in certi ambienti e non a caso veniva utilizzato per diffondere certe idee quindi sottolineo anch'io quell'esigenza e quella e quella necessità di supportare ognuno nel suo piccolo magari almeno io nel mio piccolo questo impegno di un pazzo come hai definito tu dall'altra parte dell'oceano dopodiché noi abbiamo i nostri problemi adesso io non voglio elencare tutte le cose che ci riguardano e che sono connesse all'idea di libertà e che riguardano gli immobili però se solo pensiamo la tassazione prima facciamo riferimento alla città di secca sugli affitti commerciali magari arrivasse però la città di secca sugli affetti residenziali in effetti è stata una flat tax che ha funzionato che sta funzionando che esiste dal 2011 ma che ogni giorno poi dobbiamo difendere perché c'è sempre chi dice no aiuta i ricchi è un favore alla proprietà è un vantaggio a solo pochi non comprendendosi che nei contratti di locazione come in ogni contratto anche quando vado a comprare qualcosa al supermercato quando faccio un contratto di compravendita per restare nell'immobiliare ci sono due parti dovrebbero essere con gli stessi diritti la stessa dignità mentre ancora in Italia c'è un'idea non espressa spesso espressa ma quasi sempre non espressa secondo la quale c'è una parte forte che è il proprietario e una parte debole che è l'inquilino se si parte con questa impostazione sbagliata è chiaro che poi le conseguenze sono quelle di attaccare un principio importante come quello della tassazione secca piatta dei redditi di allocazione abitativa oppure quello di fare con la scusa permettetemi di dire della pandemia due anni di sospensione del diritto nelle locazioni perché per due anni c'è stato il blocco degli sfratti che non ha voluto dire sì in qualche caso è stato un aiuto a qualche soggetto più debole ma a carico dei proprietari privati in molti altri casi è stato un aiuto un regalo a chi non ne aveva bisogno e magari un danno anzi certamente un danno a proprietari che spesso avevano più bisogno degli inquilini ma quelle sono tutte conseguenze possiamo elencare tanti provvedimenti ma sono conseguenze di una mentalità di un approccio e di una impostazione la fiscalità è l'altro esempio noi ieri c'era forse l'altro ieri la scadenza del del Limo la seconda rata del Limo 22 miliardi di patrimoniale ogni anno è libertà diciamo una proprietà che è condizionata da un pagamento di un'imposta non legata al reddito che ogni anno porta 22 miliardi di euro nelle casse dello Stato del Comune e le sottrae ai proprietari ai liberi cittadini 250 miliardi dal 2012 al 2022 2012 anno di istituzione del Limo da parte del governo Monti non è libertà o comunque una libertà molto compressa perché la patrimoniale che tanti invocano progressiva stavo per dire questo stavo per dire questo è sostanzialmente una progressiva espropriazione del bene perché se io chiedo al proprietario ogni anno una certa cifra su un bene che magari spesso ma sempre di più non produce reddito è chiaro che sto progressivamente espropriando gli esempi possono essere tanti quello degli affitti noi ecco questo movimento si chiama liberisti italiani abbiamo parlato di libertà di liberalismo noi chiamiamo nel nostro settore contratti liberi vado sul tecnico ma dal significato di una cosa contratti liberi qualcuno lo saprà i contratti di locazione 4 più 4 4 anni più 4 dell'abitativo perché li definiamo liberi perché è liberamente determinabile dalle due parti il canone iniziale iniziale questo vuol dire contratti liberi se quindi vuol dire che poi negli 8 anni successivi il canone rimane lo stesso salvo l'aggiornamento istat quindi se definiamo libero in conseguenza di una legislazione precedente ancora più invasiva e vincolistica pensiamo all'epocanone del 78 se definiamo libero ripeto sottolineo l'aggettivo un contratto per il quale l'unica libertà è data dal fatto che il canone iniziale è fissato dalle parti liberamente ci rendiamo conto della situazione in cui siamo faccio un ultimo esempio poi chiudo perché ho paura di quel richiamo di prima un esempio di attualità ne abbiamo parlato stamattina in una in una trasmissione della 7 qualcuno direbbe in trasferta ma insomma si è potuto parlare liberamente c'è una direttiva io lo voglio sottolineare e qui ne abbiamo parlato con Andrea Bernauto anche in occasione dell'ora d'aria che è una bellissima trasmissione che va diffusa e oltre alla spunta blu bisogna io lo dico anche a me stesso perché me lo faccio abbastanza bisogna sollecitare condivisioni eccetera perché ripeto torno all'inizio non serve il Parlamento se arriverà il Parlamento meglio ancora ma serve diffondere le idee e quello è un modo per diffondere le idee c'è chi ha la radio chi ha il giornale voi avete quello strumento ed altri abbiamo parlato di quella direttiva che europea non se ne parla abbastanza che obbligherà a breve quando sarà definitiva e quando sarà recepita dallo Stato italiano a rendere dicono poi vedremo se sarà così ma comunque rendere efficienti dal punto di vista energetico tutti gli immobili italiani tutti gli immobili italiani esistenti tranne semplicemente quelli di interesse storico-artistico e quindi determinerà un obbligo di intervento e di spesa necessariamente di interventi rilevantissimi sugli immobili su tutti gli immobili qui non so quanti proprietari ci siano ma se ci sono se ci sono proprietari questi proprietari devono sapere che con scadenze ravvicinatissime la prima è il 2030 saranno obbligati a fare una spesa perché per quale finalità la finalità è quella naturalmente dell'ambiente non so se ben perseguita in termini di diciamo nel merito ma sicuramente non ben perseguita nel momento in cui si impone un intervento anziché incentivarlo questa è la è la storia della confedilizia cioè quella di dire di cercare di richiamare l'attenzione dei politici europei e nazionali oltre che locali e comunali sulla necessità di agire in termini di incentivi e non di obblighi no? la stessa storia degli affitti brevi ora gli affitti brevi sono il male assoluto perché in qualche città c'è qualche sindaco un po' fighetto di solito tipo Nardella a Firenze e che è infastidito perché il suo centro storico è pieno di turisti noi diciamo c'è questo problema da qualche parte tutto da dimostrare che sia il rapporto causa-effetto sia quello cioè che i turisti ci siano perché cioè i turisti ci siano per quel motivo e non perché dal centro si sia andati via per altri motivi però noi diciamo incentivate l'affitto lungo se volete l'affitto lungo non vietate come vogliono fare sempre più faranno l'affitto breve perché quella non è la modalità anche perché poi porta al nero perché dalle leggi sbagliate si fugge ma quello che capiterà con questa direttiva vorrei utilizzare questa occasione per chiamare l'attenzione di tutti e poi magari fare altre ore d'aria per parlarne è che si distruggerà il risparmio degli italiani perché abbiamo evitato come confedilizia perché a noi lo si deve che in tutta Europa non solo in Italia vi fosse il divieto formale di vendere e affittare immobili con non aventi in certe date determinate caratteristiche ma non abbiamo risolto il problema perché nel momento stesso in cui si obbligherà a fare degli interventi è chiaro che già da domani non aspettando il 2030 un immobile che volesse essere venduto e che non avesse come non avrà quelle caratteristiche vedrà il suo prezzo calare immediatamente perché l'acquirente dirà beh io devo fare anche quell'intervento costosissimo e quindi devo e tu me lo devi me lo devi di fatto svendere quindi i pericoli sono tanti e organizzazioni come la nostra e spero che insomma lo spirito sia lo stesso che anima anche anzi certamente lo è liberisti italiani devono agire con gli strumenti che hanno non serve il Parlamento lo ripeto serve farsi sentire avere anche degli svantaggi noi abbiamo degli svantaggi ad essere un po' diciamo fuori dal colo rispetto ad altre associazioni ma continueremo a dire quello che pensiamo compreso quello che stiamo continuando a dire al sindaco di Roma e chiudo con questa annotazione locale e cioè che è assurdo aver fatto notizia di due giorni fa la formalizzazione finale di fatto un provvedimento che che ne dicano gli autori legalizza legittima benedice non so che termine usare l'occupazione visto che se ne parlava prima l'occupazione abusiva degli immobili perché nel momento in cui si dice abusiva intesa a seguito di reato nel momento in cui si dice che le cosiddette categorie fragili tra virgolette sono legittimate a chiedere la residenza in un immobile occupato attraverso un reato punito tra virgolette punito dal codice penale è chiaro che il reato non c'è più e lo stimolo a fare altre occupazioni ci sarà noi contro questo queste impostazioni queste politiche contro tante altre continueremo a batterci e a dialogare molto volentieri e con molta passione anche con i liberisti italiani grazie 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 presidente sei un riferimento per noi sulle tematiche che interessano la tua associazione anche come figura politica a questo punto allora adesso inizia il dibattito generale ci sono diversi scritti in base al minutaggio ci sono circa 7-8 minuti per parlare no perché la sala possiamo averla ancora per un po' sono circa 7 minuti quindi se ci teniamo nei 5 minuti a meglio possiamo arrivare ai 7 minuti allora adesso si è scritta a parlare c'è un intervento programmato alle 17 del presidente onorario cui poi cederò la presidenza fino alle 17 andiamo avanti col dibattito generale ci sono alcune persone che devono prendere l'aereo che poi dovranno parlare un pochino prima ma con pazienza credo che faremo in tempo ad ascoltare tutti al momento do la parola ad Alessandra Baldassarri che è membro della nostra direzione molto volentieri Alessandra Baldassarri a 6 minuti ti do un colpo ok tranquillo dovrei stare abbondantemente dentro allora buonasera a tutti molto bello vedere questa sala piena finalmente in presenza dopo questo periodo terribile e dopo l'ultimo incontro che poi è stato il primo avuto qui alla nostra scorsa assemblea allora normalmente io parlo abbraccio perché ho tutto dentro e quindi fatico quasi a tenere dietro i miei appunti però oggi desidero leggervi qualche citazione che ho trovato sulla libertà perché poi di numeri parleranno molto meglio di me i colleghi che seguiranno quindi nel 56 Ennio Flaiano scriveva qualcosa sulla libertà che desidero leggervi io credo nella libertà e amo la libertà questo mio amore non sopporta né oggettivi né associazioni io non voglio una libertà sorvegliata difesa personale intellettuale né gradisco che le si accoppino concetti altrettanto nobili come giustizia e democrazia parendomi la libertà li contenga tutti anzi li protegga tutti e poi aggiunge attenzione la libertà siamo noi la libertà non lo Stato che lo sentiamo dire così spesso ancora una frase di Paolo Sant'Arcangeli un grande scrittore pensatore fiumano purtroppo semi sconosciuto a noi italiani che nel suo bellissimo libro in cattività babilonese che ho potuto leggere da poco descriveva la libertà come il sole della vita che la rende degna di essere vissuta pensate noi ci chiamiamo liberisti la libertà è il nostro faro queste sono riflessioni profonde espresse in maniera esemplare molto meglio di quello che magari potremmo fare non utilizzando le parole di questi grandi non esiste una possibile declinazione dell'idea di libertà non può esserci libertà economica ad esempio senza libertà di scelta di parola di movimento mai come in questi ultimi anni come è stato detto abbiamo vissuto delle compressioni inaudite della libertà personale quindi dovremmo averne compreso bene il significato e l'importanza lockdown obblighi vaccinali ricatti di stato perché si dimentichiamo i ricatti di stato io non li dimentico altro che lo stato siamo noi l'individuo ridotto ad una pedina nelle mani del potere costituito eppure per molti sono state decisioni anche giuste per la tutela della salute pubblica su questo aspetto anche del responsabilizzante tornerò a breve la libertà infatti sottende la responsabilità basti pensare che anche sotto il profilo giuridico e qui ci sono molti amici avvocati che potranno confermarlo la libertà del volere è fondamentale come elemento soggettivo sia nel diritto penale che in quello civile anche per la validità ad esempio di un negozio giuridico forse è proprio la responsabilità che spaventa coloro che cadono nel tranello del caos statalista interventista dirigista è molto più comodo potersela prendere sempre con qualcun altro che ha deciso al posto tuo con la scusa del bene comune dell'interesse collettivo eccetera io dico che è un modo non so voi come lo pensate di tenere l'individuo anzi l'insieme di individui la collettività ad uno stato perenne adolescenziale per cui poi c'è papà cattivo vabbè è una tendenza inequivocabile però quella dello statalismo a fin di bene e la cosa più inquietante è che non è solo nel nostro paese di cui conosciamo tutte le magagne ma è una tendenza a me che ha preso il mondo intero almeno per mondo intendiamo il nostro mondo occidentale e allora mi è capitato di leggere un'altra cosa interessante di Michael Rectenwald professore della New York University autore di numerosi saggi che scrive testualmente che lo stesso grande reset di cui molto si parla è innanzitutto una campagna di propaganda che sfrutta l'onda anomala della pandemia come acceleratore però ci ricorda che non è un pulsante che gli oligarchi globalisti possono premere a piacimento perché questa tendenza questi eventuali piani ci si creda o no si possa venire tacciati per complottisti o meno devono essere contrastati attenzione perché questo interessa molto noi migliori idee economiche azioni individuali di sfida promuovere una maggiore concorrenza il libero mercato chiedendo una piena apertura dell'economia e qui dico quali idee migliori del liberismo e quindi veniamo a noi al coraggio di chiamarci di definirci senza mezzi termini inequivocabilmente liberisti italiani in un contesto politico sconfortante che come già è stato detto confonde volutamente io credo neoliberismo liberismo come il male la colpa di tutti i mali e purtroppo non solo a sinistra ma anche a destra è sempre colpa del liberismo del neoliberismo quelli che sappiamo non esserci mai stati quindi è un raggiro e io dico certo è un raggiro la libertà non giova a coloro che vivono di consenso sull'inganno appunto che possa esserci sempre qualcuno papastato padrone secondo me che provvede ai bisogni del popolo ritenuto massa informe salvo poi dare la paghetta il reddito di cittadinanza magari universale quindi se vogliamo davvero costruire una casa politica non ci resta che no trovare una casa politica non ci resta che contribuire a costruirla ed ecco allora che veniamo al mio appello che faccio a noi tutti e soprattutto ai giovani non so se avete fatto caso guardate quanti giovani ci sono in questa sala e veramente faccio loro un applauso perché è una gioia una speranza vedere qui questi ragazzi ai quali vanno i miei complimenti per il loro attivismo e il loro impegno politico non solo appunto per l'impegno di per sé che già oggi è raro ma poiché libero dagli indottrinamenti statalisti di cui purtroppo scuole e università sono ormai tristemente madrasse come le definisco io liberisti italiani è l'unico movimento politico che promuove il rilancio economico del paese attraverso il liberismo cioè semplicemente qual è questo mostro libertà di imprendere di realizzare i propri progetti i propri sogni possibilmente senza ostacoli burocratici assurdi nel fisco oppressivo quindi è ora di attivarsi con e anche per i giovani pensando al nostro futuro futuro di figli e nipoti basta lamentarsi assumiamoci la nostra responsabilità di persone libere di amanti della libertà e diventiamo costruttori di un'alternativa possibile grazie Alessandra ricordo che su di te puntò Oscar Giannino come presidente della regione Lazio a suo tempo ecco anche tra di noi chi c'è anche chi ha creduto in quell'avventura do la parola a Lorenzo Imbasciati che è il nostro letterman dell'ora d'aria un amico è una persona che sta dando tanto al movimento accendi il microfono la compressione delle libertà economiche è la prima emergenza in Italia così sta scritto sul nostro sito web così pensavo anch'io quando ce l'abbiamo scritto ora non più c'è di peggio e vi spiego perché mi immaginavo questo circolo vizioso che è senz'altro esistito più Stato più povertà più sussidi più tasse più Stato e di nuovo più povertà in ogni caso l'aggressione avveniva sul lato economico poteva essere crescente il mio mantra è la belva ha sempre fame ma non immaginavamo nemmeno lontanamente che l'area dell'aggressione potesse estendersi oltre l'aspetto economico con questa idea in testa non poteva andare tanto peggio di così le tasse erano già al massimo l'affer insegna mi dice il nostro amico Enrico poteva arrivare un'iperinflazione al massimo da debito ma anche da quella era immaginabile difendersi eventualmente cambiare paese o comunque rassegnarsi a una stagnazione che tanto peggio non poteva andare finché il vento delle idee stataliste non fosse cambiato e l'evoluzione del mondo lavorava per noi per dimostrare il fallimento delle idee statosocialiste allora bastava aspettare no di certo il progetto liberisti italiani era molto di più dare corpo a un'alternativa liberale liberista libertaria ma le idee erano quelle combattere contro l'aggressione dei redditi e della proprietà mai mi sarei aspettato di vedere quello che ho visto negli ultimi tre anni un'aggressione ai corpi delle persone un'aggressione mai vista prima per certi aspetti simile a quanto fatto dal nazismo contro gli ebrei anche se meno violento almeno in facciata ma per certi altri peggiore negli anni 30 bastava cambiare paese nei passati tre anni abbiamo visto un allineamento dei governi dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti da Malta alla Gran Bretagna da Israele all'Australia dal Canada perfino all'amata Svizzera e dove avremmo potuto scappare se tutti i governi erano d'accordo a violare i più elementari diritti come quello a muoversi a lavorare a manifestare idee contrarie alla propaganda mainstream perfino Malta che aveva resistito ad anni di pressione ad alzare la fiscalità per allinearla a quella dei paesi più voraci come hanno fatto come è potuto accadere io non lo so nessuno ci ha mostrato ancora dico ancora con ottimismo i meccanismi gli incentivi messi in opera magari un giorno verranno fuori magari un giorno capiremo come hanno potuto arruolare così tante forze del male dai presidenti degli ordini professionali che sanzionavano i medici gli infermieri i psicologi i senzienti ai ricercatori alle università ai censori del pensiero sui social network alla quasi totalità dei giornali fa eccezione la verità che voglio citare alla totalità dei telegiornali youtube facebook chi ha dubitato della verità di regime si è trovato tutto il mondo contro come un misero hobbit contro eserciti di orchi ma una cosa è certa e questo mi pare evidente a tutti il fine ultimo l'obiettivo che ha unito tutti i governi del mondo è il controllo un controllo mai avuto prima aver sperimentato che le persone accettano di subordinare i loro diritti fondamentali ad avere in tasca un'app con cui il governo può spegnerti può spegnere una possibilità di muoversi e altre libertà fondamentali bene abbiamo fatto come liberisti italiani a pronunciarci contro il green pass e in tempi precoci ce ne siamo accorti se andate nella pagina dell'ora d'aria e vedere le date siamo stati precoci ad accorgersi del potenziale di aggressione alle libertà nessuno qui dentro crede più voglio sperare che predisporre questa macchina infermale di controllo dei cittadini fosse strumentale al bene della popolazione a combattere il virus ci dicevano prova ne è che oggi che lo spauracchio del covid non fa più paura nella liberale Inghilterra a Oxford hanno diviso la città in quartieri e danno una multa di 70 sterline se le uscite dal proprio quartiere superano quelle consentite lo trovate su Atlantico quotidiano di oggi il gioco è sempre quello si crea un'emergenza si punta si porta a una soluzione per la quale è sempre necessario che ci sia un controllo centrale ogni volta che si oppone magari in nome ogni volta ogni voce che si oppone magari in nome di libertà personali e diritti viene tacciata di disfattismo e di intelligenza col nemico è accaduto con il covid sta accadendo con la lotta all'anidride carbonica un gas naturale prodotto dagli alberi per cui l'Unione Europea ha vietato la produzione di auto normali a partire dal 2035 ma accadrà ancora se non ci siete cascati col vaiolo delle scimmie che altro non è che l'Alpes Zoster effetto collaterale vaccino o con l'influenza del cammello troveranno qualche altro virus più convincente ma qualcosa di buono è comunque successo come succede con tutti i virus si sviluppano anticorpi e si sono visti anticorpi liberali risvegliati in persone con cui mai avrei immaginato di dare apprezzamento i filosofi di sinistra Agamben Cacciari Fusaro politici lontanissimi come Mattei Rizzo Paragone Meluzzi oltre al solito Sgarbi che Dio l'abbia in gloria e tanti altri avvocati giornalisti influencer e tanta gente comune che ho incontrato nelle piazze a protestare contro il Green Pass ma adesso è tutto finito no niente affatto se uno ti spara e riesce ad evitare il proiettile poi cosa fai? lo lasci andare? fai una legge per imporre i proiettili non letali? sarebbe sciocco sono state manifestate volontà assassine e non possiamo ignorarlo anche e soprattutto ora che il proiettile lo abbiamo schivato non ho detto assassine per caso se noi se non ci giriamo dall'altra parte in questi giorni si vedono i primi effetti malori improvvisi giovani con l'infarto l'ictus il pilota dell'autofighter a Trapani che si schianta senza attivare l'SOS il pulmana ischia che cade dal tornante senza frenare l'amico sano mio coetaneo che muore la sera dopo aver preso alla mattina la prima dose ragazze che non hanno più le mestruazioni adolescenti depressi per mancanza di contatti sociali anni rubati alla socialità che se me li rubano a 56 anni due anni non importa ma se me li rubano a 18 anni non ritornano più ma il peggio deve ancora venire montagneci avvertito AIDS e tumori aumenteranno inspiegabilmente nei prossimi 5 anni e allora se vi ho trovato d'accordo a riconoscere il controllo come vero fine delle politiche di gestione del covid considerate anche questa idea se accanto al controllo il fine fosse anche quello della diminuzione della popolazione si spiegherebbero tante cose che altrimenti non si spiegano che fare dunque ora che il primo proiettile è stato sparato occorre riconoscere come e quando verranno armati i nuovi proiettili per uccidere la libertà delle persone dobbiamo riconoscere lo schema emergenza controllo dobbiamo armarci di argomenti intendo quando sentiamo parlare di lotta ai cambiamenti climatici di crisi energetica di sostenibilità di denaro digitale attenzione al dibattito sulle commissioni delle carte di credito non è quello il problema perché poi se quello è il problema quel problema si risolve col denaro digitale noi invece siamo per la battaglia per la libertà di contante quali strumenti a difesa delle libertà dobbiamo approntare la tutela dell'anonimato il fatto che una commissione abbiamo nominato per lavorare attorno a un punto che tuteli l'anonimato di acquistare per esempio le sim e andare in albergo senza essere identificati riconoscere le aggressioni dell'unione europea e toglierle quell'aura di superiorità che non merita e considerarne l'uscita come una possibilità ma soprattutto smetterla di considerare lo Stato come soggetto infallibile cioè che non può fallire che lo Stato abbia fallimenti ce lo chiediamo ce lo vediamo tutti lo diceva Andrea nel primo intervento eppure evitiamo accuratamente di applicare allo Stato le norme di senso comune che governano i fallimenti delle imprese se un'impresa fallisce i creditori perdono a volte solo in parte i propri crediti per lo Stato può essere lo stesso ed è l'ora di cominciare a dirlo pensionati dipendenti pubblici detentori di titoli pubblici non hanno più diritti non hanno più diritto di venire rispettati i propri crediti dei giovani che non trovano lavoro a cui il futuro viene legato per il cumulo di promesse fatte dallo Stato i cui costi sono un fardello non più sopportabile lo Stato può fallire e dopo si potrà rifondare la convivenza civile su responsabilità e libertà grazie grazie Lorenzo la parola al nostro tesoriere Angelo Canini poi segue l'intervento programmato del presidente d'onore Giancarlo Malendi e poi si prepara Maurizio Conte ex assessore ex assessore della regione Veneto e poi successivamente Alessandro Nofri prego Canini Buonasera a tutti è veramente un piacere vedere questa sala che fa sempre piacere vedere tanti liberali e liberisti tutti insieme qualche giorno fa durante un pranzo di lavoro stavo parlando dei soliti argomenti quelli che animano le nostre le nostre chat i nostri i nostri i nostri discorsi quotidiani e una persona che era al tavolo con noi mi ha fatto un'osservazione che mi ha fatto riflettere mi ha detto ma scusa ma adesso che al governo c'è il centrodestra che motivo avete voi di avere un movimento liberista cioè in fondo tutto sommato questi problemi molto probabilmente verranno risolti cioè le cose delle quali discutiamo noi quotidianamente su un punto comunque quanto meno con questa persona concordavamo e cioè che dopo decenni di usi e abusi delle sinistre mascherati da una presunta superiorità morale che hanno quasi rilegato tutti quelli che non pensavano come loro ad un ruolo subalterno stiamo scoprendo che erano tutte balle cioè oggi come una palla di neve che rotola e diventa una valanga vediamo investiti questi signori diciamo questi moralisti da una valanga di fango possiamo citare il caso Sumauro per esempio che è un caso che si va ad incardinare in un sistema che non era rappresentato soltanto da lui perché chiaramente per poter prendere quei finanziamenti c'è stato qualcuno che questi finanziamenti glieli ha concessi quindi sicuramente quella figura e il network che rappresenta era marcio ma non è che chi li ha finanziati non fosse altrettanto marcio poi abbiamo avuto l'occasione di vedere quello che è accaduto in Europa adesso abbiamo un altro pezzo della sinistra messo in crisi dallo scandalo del del Qatar gate poi diventerà marocco gate poi diventerà arabia gate perché adesso l'arabbia saudita si sta candidando per per eventi internazionali quindi chiaramente ci allargheremo anche su quello però il punto che secondo me è più interessante di tutti è un evento che è accaduto la scorsa estate in Ciociaria la Ciociaria è un po' il centro nevralgico della politica regionale allora ve lo ricordate quando il capo di gabinetto del sindaco di Roma una persona che pochi conoscevano perché sono quelle figure un po' defilate queste persone Albino Ruberti che fa una grossa litigata con un personaggio un personaggio molto potente perché è un personaggio che rappresenta l'ASI è il presidente dell'ASI che è il consorzio industriale della della ciociaria e ve lo ricorderete è stato su tutti i giornali le intercettazioni vieni qui mettiti in ginocchio ti sparo una roba così poi quando è stato in qualche modo intercettato e gli è stato chiesto con chi ce l'aveva ha parlato di una questione calcistica ha detto no ma guardate stavamo discutendo di Roma di Juventus stavamo facendo una cosa del genere e invece qualche giorno fa abbiamo scoperto che diavolo era successo e ce l'ha spiegato Zingaretti è successo che c'era un piccolo problema di posizioni sia nelle liste alle politiche che nelle liste alle regionali tant'è che qualche giorno fa Zingaretti ha sgombrato il campo facendo eleggere Bruschini che era una delle persone diciamo che stavano contendendo la poltrona come capo della Egato ora io mi sono incuriosito perché ho detto ma che cos'è sta Egato cioè mi sono trovato un po' in difficoltà perché era una cosa che mi sfuggì io conoscevo le Ato e mi erano sfuggite le Egato e allora ho fatto una piccola ricerca questa la leggo perché non lo sapevo neanche io che cosa fosse ho scoperto intanto che le Egato sono degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale già il fatto che li chiamano ottimale comunque sono degli organismi che sono stati originariamente istituiti dalle province autonome e dalle regioni a statuto speciale quindi già questo fa capire che sono degli enti che giocano a mano libera allora praticamente cosa succede il piano rifiuti regionali del 2020 ha istituito gli Ato ambiti territoriali ottimali con dei perimetri geografici corrispondenti alle cinque province del Lazio Frosinone Viterbo Rieti Latina e la città metropolitana di Roma che cosa dovrebbero fare queste strutture si dovrebbero occupare sostanzialmente della gestione dei rifiuti all'interno degli ambiti territoriali quindi che cosa succede succede che praticamente la regione Lazio ha creato una struttura che sarà composta da 42 persone tra presidenti 5 e consiglieri quindi praticamente si è fatta un altro consiglio regionale no? che è giusto i numeri più o meno solo quelli quindi hanno fatto un nuovo reggimento e anche sui valori economici si sono messi lì no? perché il presidente prende 8.000 euro i consiglieri ne prendono 4.000 e qui stiamo parlando solo di poltrone poi mancano strapuntini e posti in piedi perché queste strutture chiaramente avranno personale no? avranno tutto quindi loro che cosa hanno fatto? hanno detto è molto probabile che perderemo le elezioni regionali però abbiamo tanta gente che c'ha famiglia quindi costituiamo un nuovo consiglio parallelo queste strutture di fatto come funzionano? cioè lato è composto da tutti i comuni un minuto purtroppo che sono all'interno dell'ambito quindi praticamente ognuno di questi comuni che sia rappresenti mille abitanti o 50.000 vale sempre un voto quindi nel momento in cui il PD avrà 20 comuni 30 comuni da 500 abitanti comunque avrà 20 voti 30 voti su quell'ambito quindi non è più importante avere un grande consenso è importante riuscire a prendere alcune roccaforti e su questo diciamo che loro fondamentalmente sono molto bravi quindi alla fine noi ci ritorniamo io ho fatto tutto questo ragionamento per arrivare a dire cosa che alla fine c'è bisogno e questa è la risposta che poi alla fine ho dato all'interlocutore che mi diceva se c'era o non c'era bisogno di un partito liberista secondo me c'è bisogno di un partito liberista perché dall'altra parte della barricata cioè sull'attuale governo io non vedo questa grande capacità di diciamo di interpretare quelle che possono essere le nostre esigenze è notizia di un paio di giorni fa di un emendamento sulla sulle multe legate al reddito delle persone non so se l'avete letta questa cosa io quando l'ho letta a me è venuto in mente ve lo ricordate nel 2007 secondo governo Prodi c'era un certo padova schioppa che faceva il ministro no e misero i manifesti per strada anche i ricchi piangono ecco io quando l'ho sentito quando l'ho letto questa notizia a me è venuto in mente quel manifesto anche i ricchi piangono ma io dico è possibile mai che questa sia diciamo il modo con il quale si affronta la soluzione a tutte le decine di problemi che abbiamo cioè mettendo le multe in base questa è una follia e allora per stare nel tempo chiudo 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 con una una frase di Einaudi che dice migliaia milioni di individui lavorano producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli incepparli o scoraggiarli ecco noi ci auspichiamo che un partito liberista all'interno di questo sistema possa evitare di ostacolare e di inceppare chi in questo paese vuole fare qualcosa grazie ad Angelo Galini al nostro tesoriere e adesso diamo la parola invece al nostro presidente d'onore che ci fa molto onore Giancarlo Morandi io volevo ringraziare e volevo che tutti quanti insieme facciamo un applauso a Giancarlo Morandi perché è il nostro più grande sostenitore e grazie a lui abbiamo potuto fare tante cose non che tanti altri che già sono intervenuti e che ne interverranno non lo hanno fatto ma sicuramente Giancarlo è stato il primo che ha scommesso sul serio sui liberisti italiani grazie 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 a voi va bene io non devo rispondere alla domanda che ci ha fatto Andrea Bernardo perché altrimenti non avrei lasciato la segreteria nazionale del partito liberale per essere qua per cui su questo non c'è ombra di dubbio e sono perfettamente d'accordo su quello che diceva Mancia direttore dell'opinione che dobbiamo essere duri e cattivi e concreti ma sono anche d'accordo che dobbiamo trovare degli alleati per fare un pezzo di cammino insieme se vogliamo incidere sulle politiche del nostro paese noi purtroppo siamo stati sfortunati perché ci siamo trovati qui circa due anni fa all'inizio del 20 e dopo due mesi di una bella assemblea fatta proprio in questo luogo dovevamo replicare a Milano e invece eravamo chiusi in casa per il covid e per cui c'è mancata la diffusione in giro per l'Italia di tante altre organizzazioni come normalmente un'associazione come la nostra le deve fare per essere presenti concretamente proprio su tutto il territorio nazionale ma purtroppo c'è mancato un'altra cosa importante c'è mancato un dibattito tra di noi non semplicemente sulle questioni economiche e liberiste che per quanto riguardano l'economia su cui credo che siamo ampiamente d'accordo e su cui abbiamo continuato a dibattere magari attraverso i social e quant'altro ma c'è mancato il dibattito su tutti gli altri problemi che vive il nostro paese se io facessi una domanda qua cosa pensiamo noi sul problema dell'immigrazione io credo che sarebbe un problema sapere esattamente cosa pensiamo tutti quanti e se la pensiamo lo stesso modo e allora io volevo proporre volevo dire due cose sostanzialmente perché non voglio togliere spazio al dibattito la prima è ricordare a tutti noi la necessità dell'approfondimento culturale e naturalmente politico su tutti gli altri temi che riguardano un organismo come il nostro che ha ambizione di influire sulle politiche italiane che non possono essere semplicemente quelle che riguardano l'economia ma che riguardano tutta una serie di altri problemi in modo tale che noi possiamo essere degli interlocutori a 360 gradi dei nostri cittadini rispondendo alle necessità delle città come abbiamo fatto con le candidature qui a Roma e interpretando i bisogni della città di Roma ma su tutte le altre questioni che ogni giorno i nostri concittadini si trovano sul giornale e si trovano ad affrontare e io volevo proporvi approfittando del lavoro che io faccio una questione che credo che possa essere una nostra bandiera e che riguarda l'ambiente non riguarda l'ambiente dal punto di vista del dibattito che c'è in giro per il mondo se i cambiamenti climatici dipendano o meno dall'uomo in che misura e quant'altro secondo me non è questo il nostro problema ma noi possiamo alzare una bandiera importante invece dal punto di vista ambientale che ancora oggi non è dominio di nessuno partito e quale? Beh ha un nome ben preciso si chiama economia circolare cosa vuol dire? Vuol dire che ormai da tempo ci siamo accorti tutti che noi consumiamo nei nostri territori molto più beni materiali di quello che i territori producono pensate soprattutto l'Italia dove non abbiamo miniere non abbiamo petrolio non abbiamo un sacco di cose e che dobbiamo importare tutto da fuori dove le stime dicono che noi avremo bisogno di quattro territori uguali all'Italia per soddisfare i nostri bisogni ma la soluzione non completa certamente ma in parte capace di risolvere questo problema c'è e si chiama questa economia circolare che è cominciata già un bel po' di anni fa e alcuni già la praticano l'hanno sempre praticata ma oggi secondo me è una bandiera importante vuol dire prendere i prodotti a fine vita quando non sono più utilizzabili e trasformarli in materie prime di nuovo utilizzabili vi faccio un esempio semplicissimo che tra l'altro come vi dicevo prima approfitto perché è il mio lavoro noi abbiamo cominciato a raccogliere col consorzio che presiedo le batterie al piombo che voi tutti avete sulle vostre automobili i motocicli i motoscafi se li avete e quant'altro quando sono giunte a fine vita non servono più a niente e sono tra l'altro un rifiuto pericoloso perché contengono piombo e acido solforico abbiamo cominciato 30 anni fa le raccogliamo in tutta Italia e vi informo che sono 14 milioni di pezzi all'anno e abbiamo trasformato questo rifiuto in piombo in plastica e in acido solforico di nuovo utilizzabili per darvi un'idea nei primi vent'anni di lavoro abbiamo prodotto tanto piombo nuovo quanto avrebbe fatto una miniera lunga 20 km una miniera di piombo 20 km questo vuol dire che abbiamo fatto un grosso lavoro da un punto di vista ambientale perché non siamo più andati a torturare la terra per scavarla e tirare fuori delle cose ma abbiamo fatto qualcosa molto importante da un punto di vista sociale ed economico perché per fare questo ci vogliono nuovi posti di lavoro ci vogliono nuove aziende perché le aziende oggi sono quelle che costruiscono ma quelle che prendono il rifiuto e lo fanno diventare di nuovo una materia prima non ci sono ancora per cui sorgono nuove aziende e c'è la ricerca che è anche chiamata a rispondere a questo bisogno vi racconto questo anedodo noi oggi raccogliamo apprecchiature elettriche elettroniche gomme insomma tutta una serie di cose ma il televisore il televisore una volta quando non serve più arrivava sulla catena di montaggio c'era un bel signore con bicipite un po' forte un martello gli dava due o tre martellate e poi delle signorine con i guanti cercavano di tirar via i pezzi utili oggi il televisore che ormai non serve più arriva c'è un robot che lo guarda tira fuori i cacciaviti e lo smonta senza rompere niente e il vetro viene utilizzato nelle fonderie di piombo perché il vetro del televisore ha dentro tanto piombo vengono recuperati i vari pezzi una volta era un costo era un lavoro utile solo ambientamente oggi è un lavoro utile anche da un punto di vista economico per cui produciamo posti di lavoro ricerca e nuove aziende per cui l'economia circolare che è una parte delle problematiche ambientali ma che riveste tutta la nostra attività perché tutto può essere recuperato pensate che in Cile anzi scusate in Perù in mezzo a un deserto c'è una montagna fatta da vestiti dismessi che non sono più utilizzabili utilizzabili e da tutto il mondo vengono mandati lì poi c'è un altro posto anche in Africa in un altro in Nigeria ma oggi stiamo in Italia organizzandoci per recuperare anche tutto quello che riguarda la parte tessile che non sono solo i vestiti sono anche i nostri divani le nostre tende i sedili dell'automobile e quant'altro per cui tutto quanto può essere recuperato e riutilizzato per fare nuovi prodotti allora questo è un impegno ambientale deve essere accompagnato da leggi adeguate perché dobbiamo accompagnare il lavoro che viene fatto su questi rifiuti e le varie normative che ci sono ma non è un costo guardate che quasi tutti i provvedimenti ambientali comportano dei costi forti proprio per le categorie sociali meno ambienti questo è esattamente il contrario questo produce posti di lavoro nuove aziende nuova ricchezza per la nazione e naturalmente anche un grande vantaggio ambientale e a me sembra che questa debba essere una delle bagliere che noi possiamo fare e devo dire che su questo perché appunto abbiamo bisogno di amici con cui fare il nostro cammino politico e di alleati può essere anche un momento di passi insieme di cammini insieme con altre organizzazioni che poi potrebbero alla fine capire anche che noi non solo abbiamo ragione su questo ma abbiamo anche ragione sulla nostra impostazione generale per quanto riguarda la libertà grazie grazie Giancarlo ecco questa l'intervento di Giancarlo Morandi sulle tematiche ambientali è la dimostrazione che gli ambientalisti rossoverdi cioè quelli che oggi a Roma ancora non ci consentono perché sono loro che hanno governato negli ultimi vent'anni di avere un termo valorizzatore di poter avere una città pulita eccetera ecco a noi liberali i verdi rossi e gli ambientalisti italiani non ci insegnano nulla adesso darei la parola per un intervento programmato ad un nostro neo iscritto perché sei iscritto oggi Maurizio Conte viene dal Veneto è stato portato qui da un membro della direzione Mauro Brotto che non si fa mai vedere ma che sta con noi fin dal primo momento ai tempi di SOS partita IVA Maurizio Conte è ex assessore della regione Veneto Conzaia quindi vediamo cosa vuole dirci e soprattutto se ci vuole realmente dare una mano grazie buongiorno a tutti grazie dell'invito all'amico Mauro e anche al presidente Andrea per questa occasione io spero sia un'occasione proficua che possa veramente mettere in atto un rinnovamento della politica si parlava prima di fallimento dello Stato io vengo da un Veneto da una regione che sicuramente ha sempre accentuato quella che è la necessità di dare autodeterminazione a un popolo dare federalismo e autonomia a un territorio perché per noi autonomia e federalismo vuol dire responsabilità e penso sia proprio questo l'obiettivo di chi di chi ha a cuore veramente il futuro di uno Stato renderlo libero a livello territoriale nelle sue scelte e soprattutto nelle sue opportunità differenti magari da una parte dell'altra del paese ma che devono insieme portare veramente a un rilancio di quello che è il valore non di uno Stato centralista ma di uno Stato che deve essere al fianco del cittadino e noi vediamo magari il fallimento dello Stato soprattutto nell'ambito di quello che è l'affallimento della politica perché io non posso e ho fatto una scelta sì ho fatto l'assessore a fianco di Zaia il primo suo mandato poi ho fatto una scelta quando ha preso il potere in mano di un partito un partito che era territoriale era identitario aveva le sue radici proprio nella difesa di quello che era il patrimonio imprenditoriale della libertà dell'imprenditore che voleva in qualche maniera poter lavorare e non essere succube di uno Stato che magari impediva a lui stesso di poter raggiungere i suoi obiettivi da imprenditore quella lega che poi è stata presa in mano da un segretario che ora è anche al governo ma che ha fatto perdere quell'identità quell'identità legata proprio al rispetto di quelli che sono i valori del mondo imprenditoriale io spero sia questo l'obiettivo per un Veneto e per un paese come il nostro di rimettere veramente in primis come priorità quello che è il diritto di un imprenditore ma anche del suo operaio perché noi abbiamo visto in Veneto tanti operai diventare imprenditori e questo è il nostro obiettivo riuscire a far crescere e soprattutto dare speranza a tanti giovani che vedo veramente numerosi qui presenti non posso pensare a quel reddito di cittadinanza che è soprattutto rendere un cittadino suddito dello Stato noi vogliamo la libertà di un giovane di poter scegliere il suo futuro di poter garantirsi un futuro lavorativo farsi una famiglia nel nostro paese senza vederli andare e scappare per il mondo sicuramente siamo in un mondo globale sicuramente l'esperienza può essere utile ma noi vogliamo che tutte le opportunità che possono avere poterle dare nel nostro paese nel nostro territorio io spero sia questo l'obiettivo di quello che può essere un magari percorso che non è legato il partito i partiti ce ne sono tanti io spero che ci sia una politica liberale che cresca che cresca quella convinzione che la libertà anche in politica non può essere legata a un segretario unico di un partito che poi impone solamente yes man noi vogliamo essere liberi di pensare e soprattutto di dare una mano al nostro paese grazie grazie per noi è molto importante il tuo intervento la tua iscrizione è un'iscrizione di peso perché sappiamo che in Veneto hai un largo seguito la parola a Giorgio ah no scusate 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 la parola a uno dei nostri fondatori responsabile di giustizia del partito Alessandro Nove segue Alessandro Nofri segue Giorgio Petrucci e si prepara Diego Banti mettetemi il timer allora quasi tre anni fa stavamo qua ed eravamo un gruppo di amici di persone che si conoscevano che erano unite dagli stessi ideali eravamo unite dagli ideali di libertà dall'ideale di riduzione della sfera di intervento dello Stato eravamo uniti dalla volontà di far prevalere il principio di libertà economica rispetto al principio di autorità statale questa era la nostra visione che in quel momento era assolutamente rivoluzionaria rispetto a tutti gli altri cioè tutte le altre forze politiche che hanno una visione diametralmente opposta rispetto alla nostra loro cosa pensano che al centro dell'universo quindi il fine e il mezzo unico ed ultimo sia lo Stato e noi abbiamo rivoluzionato questo punto di vista perché ci siamo resi conto all'inizio in una cena con Andrea Bernardo prima ancora che nascesse tutto questo movimento Andrea che già aveva diciamo così indottrinato altri nostri fondatori prima ancora di me che il problema era che da ormai 30 anni eravamo contraddistinti da una progressiva espansione dello Stato che si andava piano piano ad appropriare a succhiare i nostri diritti sia i nostri diritti dal punto di vista delle libertà economiche sia quelli dal punto di vista proprio dei diritti individuali e quindi cosa abbiamo pensato cosa serviva cosa serve tuttora a maggior ragione dopo il periodo del lockdown dopo le restrizioni che abbiamo avuto subire dopo il fatto che come diceva Lorenzo Imbasciati per poter uscire liberamente andare all'interno di un ristorante lavorare andare a scuola fare sport per i bambini bisognava avere un tesserino di Stato in formato elettronico però sempre il tesserino di Stato gestito centralmente che ci poteva a un certo momento spegnere e privare delle nostre libertà abbiamo deciso che era necessario un movimento che avesse queste idee principali libertà personale libertà economica proprietà privata e garantismo idee che comunque sono nel nostro statuto e che nessun altro movimento ha però al di là della filosofia bisogna dire che siamo qui noi qua da tanti anni che lavoriamo che togliamo tempo al nostro lavoro togliamo il tempo alle nostre famiglie togliamo il tempo alla nostra vita privata e ci sacrifichiamo Andrea ne è l'esempio assoluto ma a volte andiamo anche in crisi nel nostro lavoro nelle nostre famiglie proprio perché amiamo la politica amiamo questo impegno ebbene non stiamo a giocare qua noi facciamo le cose seriamente siamo idealisti ma siamo anche pragmatici perché non abbiamo tempo da perdere l'Italia non ha nessun tempo da perdere quindi adesso visto che le nostre vite sono impegnate il nostro obiettivo è competere il nostro obiettivo è vincere è confrontarci con le altre forze politiche con il mondo statalista del centro-sinistra diversamente statalista del centro-destra vogliamo lasciare una traccia in questo paese perché lo lasceremo ai nostri figli ma dobbiamo fare questo noi non è che vediamo tutti allo stesso modo non riteniamo che il centro-sinistra e il centro-destra siano esattamente la stessa cosa siamo antitedici al centro-sinistra perché si tratta di forze politiche stataliste al 100% quindi che comprimono le libertà individuali ma siamo anche molto diversi dal centro-destra perché siamo più indulgenti con il centro-destra perché accettiamo di discutere e di proporci con il centro-destra unicamente perché sono più moderatamente statalisti del centro-sinistra solo per questo perché sono leggermente più aperti a un po' di libertà in più per i cittadini noi abbiamo apprezzato tantissimo che il governo Meloni abbia ridotto le restrizioni al contante cioè che abbia spostato il tetto da 2.000 euro a 5.000 euro siamo soddisfatti del fatto che i commercianti abbiano un minimo di range di scelta se essere o meno obbligati ad utilizzare una carta di credito o meno ma un governo realmente liberale doveva abolire qualsiasi limite all'uso del contante senza se e senza ma il governo liberale doveva dire che all'interno del proprio esercizio commerciale all'interno del proprio studio all'interno della propria azienda all'interno della propria officina chiunque deve essere libero di dire se vuole o meno che si usino le carte di credito e se vuole che nella propria attività si usino solo i contanti perché l'unica moneta avente valore legale è la moneta contante deve essere libero di farlo e se non va bene al consumatore al cliente il cliente seguendo la legge di mercato si sposterà andrà in un altro negozio dove potrà utilizzare la carta ma ciascuno a casa sua deve essere libero di decidere come si paga noi abbiamo messo ci abbiamo lavorato tantissimo guardate le persone che vedete qua si sono impegnate nel 2021 per dare alla capitale d'Italia un sindaco che fosse rivoluzionario che rivoluzionasse il parametro dell'attività amministrativa noi volevamo che l'attività amministrativa del comune di Roma che è una delle più grandi holding economiche che esiste in Italia che gestisce una trentina di società che ha un giro di affari notevole che ha decine e decine di migliaia di dipendenti che si uniscono alle decine e decine di migliaia di dipendenti dell'amministrazione comunale volevamo far cambiare il paradigma e gli avevamo messo su un piatto d'argento la candidatura di Andrea Bernardo a sindaco di Roma abbiamo raccolto le firme abbiamo fatto incontri purtroppo il centrodestra non è stato in grado di capire che quello era il segreto la ricetta per poter vincere questo non è riuscito a capirlo e hanno fatto le solite decisioni e hanno perso miseramente hanno scelto quello che ha detto che servivano 6.000 bigliettai all'ATAC diciamo che hanno scelto l'antitesi perfetta di chi voleva ridurre l'amministrazione a vantaggio delle attività private e dei cittadini e chi invece voleva incigantire ancora di più questa macchina burocratica elefantiaca quindi noi siamo indulgenti ma non ci risparmiamo le critiche al centrodestra come responsabile giustizia di questo movimento ho molto parlo solo della giustizia e poi chiudo c'era tanto altro da dire però mi limito adesso alla giustizia ho molto apprezzato le parole del del ministro dottor Nordio ministro dottor Nordio che era il nostro candidato alla presidenza della repubblica nel quale credevamo tutto ciò che ha detto contro lo strapotere dei magistrati quindi per la responsabilità civile dei magistrati per la separazione delle carriere per eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale e anche per in qualche modo ridurre l'intervento in politica della magistratura e le intercettazioni soprattutto l'abbiamo molto apprezzato tuttavia per il momento si parla di idee del ministro purtroppo alla prova dei fatti abbiamo constatato che la prima il primo decreto cosa ha fatto ha introdotto un nuovo reato che non serviva assolutamente a niente che non sto qui a discutere il motivo perché non serviva assolutamente a niente la norma che punisce e triplica le pene per i reparti cioè una visione pan penalistica del mondo che ogni problema si risolve con un reato con una pena con una sanzione penale questo non va bene questo non va bene quello che quello che dovremmo chiedere e qui mi fermo definitivamente parleremo alla terza assemblea di tutte le altre cose quello che noi dobbiamo chiedere sulla giustizia al ministro della giustizia è di far sentire la propria voce nel consiglio dei ministri perché non è possibile che lui a titolo personale lancia queste battaglie e soprattutto di ricordarsi un fatto molto molto importante che in Italia ci sono centinaia di magistrati categoria professionale che io apprezzo e mi ci confronto quotidianamente perché però anziché stare all'interno dei tribunali a svolgere il proprio lavoro quando i tribunali hanno una carenza di organico stanno nei ministeri centinaia di magistrati che scrivono le leggi per il governo scrivono i decreti ricoprono cariche fondamentali all'interno dei ministeri quindi svolgono attività del potere esecutivo e del potere legislativo questo non va bene i magistrati non possono fare il governo e il Parlamento contemporaneamente e stare nelle aule di giustizia i magistrati devono tornare a svolgere il proprio onorato lavoro all'interno dei tribunali e delle corti d'appello e deve essere vietata qualsiasi norma che li consente di lavorare nel governo vi saluto una sola cosa una sola cosa sicuramente possiamo garantire con Andrea Bernauto non vi illudete perché non molleremo mai fino a che non riusciremo ad arrivare al risultato noi non molleremo mai dopo tanti anni di locuramento quotidiano non molleremo grazie 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 Alessandro adesso do la parola a Giorgio Petrucci presidente del comitato di recente costituito ispirato Adam Smith prego buonasera innanzitutto io riprendo Alessandro dalle tue ultime parole non molleremo certamente non molleremo chiaro però ci aspettano due secondo me sfide molto importanti perché credo che abbiamo gli strumenti abbiamo le conoscenze abbiamo tanto per poter secondo me cambiare l'Italia però dobbiamo arrivarci lì dobbiamo prima arrivare nella stanza dei bottoni quindi questa è la sfida secondo me più grande e come ci si arriva alla stanza dei bottoni secondo me si arriva cambiando le coscienze delle persone è un lavoro difficilissimo pesantissimo però secondo me si parte da lì perché se le persone continuano ad avere questo stato di coscienza difficilmente potranno fare anche il salto di mentalità o di paradigma perché? perché sono addormentate sono secondo me a sue fatte stanno all'interno di un sistema che non hanno scelto ma che gli è stato imposto e quindi vivono un po' come ingabbiate io parlo quotidianamente anche per lavoro e vedo veramente tante persone addormentate tante persone che hanno bisogno di essere risvegliate ma come possiamo allora risvegliare noi queste coscienze addormentate secondo me portando un po' di luce portando un po' di luce nella loro vita e in che modo? secondo me attraverso la conoscenza attraverso l'informazione il dialogo l'insegnamento dobbiamo essere anche dei bravi insegnanti dobbiamo far capire loro perché magari essere liberisti è meglio di non essere statalisti ma non lo sanno tanti non lo sanno tanti vivono secondo me nel buio totale nelle tenebre però dobbiamo farlo secondo me anche in un modo diverso come fanno gli altri perché ci dobbiamo distinguere non dobbiamo essere uguali agli altri dobbiamo farlo con un tono diverso a me le urla non piacciono il politichese non mi ha mai contraddistinto non sono un tecnico non ho fatto mai politica mi piace il politico che parla chiaro che il cittadino quando lo ascolta capisce cosa sta dicendo poi se rispetta i suoi impegni è un altro discorso però intanto facciamo capire cosa vogliamo con semplicità basta essere semplici e con chiarezza e coerenza un santo a cui io sono particolarmente devoto diceva non si può scacciare il buio con il bastone come fanno tanti anche tanti nostri politici ma il buio si scaccia solo con la luce e la luce può essere scacciata anche secondo me con un fiammifero perché se immaginiamo una stanza totalmente buia basta accendere un fiammifero secondo me per renderla sufficientemente illuminata per capire dove stiamo e mi piacerebbe tanto credere Presidente dove è andato Andrea che questo fiammifero siamo proprio noi proprio i liberisti italiani un altro secondo me aspetto su cui dobbiamo lavorare molto dobbiamo resistere a quel sistema così magnetico perché io sono entrato non ho fatto politica ma quando si entra nei palazzi c'è un potere enorme forte abbiamo visto quello che è successo anche a chi diceva di aprire con una scatoletta e poi che fine ha fatto quindi è umano è comprensibile io non da un punto di vista umano è difficile resistere a certe tentazioni però dobbiamo farlo noi perché se facciamo come gli altri non facciamo nessuna differenza e questa è un'altra grande sfida perché quando l'essere umano sta di fronte alla tentazione è difficile resistere però non dobbiamo farlo dobbiamo farlo nei confronti di tutte quelle persone che purtroppo ormai hanno perso totalmente fiducia nelle istituzioni perché semplicemente perché sono state tradite tantissime volte basta poi pensare agli ultimi fatti di cronaca quella giudiziaria che ha coinvolto l'ennesimo politico italiano anche europeo vi cito giusto brevemente una fonte del Sole 24 Ore di qualche giorno fa il lobbismo vi lo leggo per evitare di fare errori in Europa il lobbismo è vecchio quanto l'Unione il lavoro delle lobby influenza il 75% delle decisioni prese da Commissione e Parlamento dicono le stime dal 2011 esiste il registro europeo per la trasparenza al quale sono tenuti a scriversi tutti coloro che conducono l'attività di lobbying ma il sistema fa acqua la registrazione è volontaria i controlli non funzionano come evidenzia la cronica giudiziaria e alcuni soggetti come le ONG i governi terzi rappresentanze diplomatiche associazioni sindacati chiese partiti fondazioni sono esclusi dalla registrazione quindi solo dopo aver vinto queste due grandi sfide allora potremmo cominciare a dire agli italiani perché conviene seguire noi non seguire qualcun altro che che fino a oggi ha tentato ma ha tentato ha fallito chiaramente nel tentativo di dare un governo al nostro al nostro paese poi il programma secondo me si può fare perché il programma è molto semplice anche se non è facile è velocissimo da realizzare perché è facile perché in fin dei conti lo Stato deve fare poche cose secondo noi poche cose ma bene in modo impeccabile il resto può essere e deve essere lasciato nelle mani di ciascun individuo nel rispetto dell'altrui libertà questa mattina mentre facevo finivo gli allenamenti mentre andavo in macchina si avvicina una signora dice un po' preoccupata c'aveva un cagnolino davanti a sé mi vede che io guardo il cagnolino e dice no no non si preoccupi intanto lui autonomo io la guardo sorrido signora dico lui ha capito già tutto liberista grazie grazie Giorgio presidente di un comitato dei liberisti italiani e ora diamo la parola a Diego Banti che viene che viene dalla Toscana presidente ce lo dice il primo il primo comitato che si è costituito dei liberisti italiani in Toscana esattamente grazie dell'introduzione ovviamente è un grande piacere essere qui a questa seconda assemblea e vi porto appunto i saluti del comitato d'asta che è stato appunto il primo e c'è anche il buon il buon Fabio qui con noi anch'io in realtà sono stato piacevolmente preceduto dall'intervento del direttore mancia riguardo a quello che è successo in America con questa acquisizione di Elon Musk di Twitter che ha destato moltissimo scalpore e reazioni contrastanti c'è chi come noi ha gioito per le intenzioni di Musk nel voler riportare un social come questo comunque forse non pesante come Facebook o altri ma comunque che incide nella vita della rete mondiale a una dimensione più normale più iniziale di quando i social erano gli albori e rappresentavano davvero un passo avanti per la comunicazione e per la libertà di parola ebbene chiaramente c'è chi come noi appunto ha gioito e altri invece che hanno cominciato a strapparsi le vesti a diciamo indicare Musk come un tiranno per le sue intenzioni di fare quello che dopo tutto è anche cioè sarebbe anche normale e legittimo e cioè che delle piattaforme che sono tecnicamente neutrali non si arroghino il diritto di decidere che cosa è giusto e cos'è sbagliato ebbene la novità di queste settimane qual è? quindi non è tanto l'acquisizione in sé quanto semmai il fatto che Elon Musk sta pubblicando i famosi Twitter files ovvero una serie di documenti e mail piuttosto vasta a dire il vero dai quali si evince quello che già in realtà sapevamo ovvero che Twitter è stata servita fino ad ora ai voleri della sinistra progressista americana in particolare nel tempo sono stati bloccati account conservatori messi in shadow ban quelli un po' meno scomodi e soprattutto il fatto clou delle ultime presidenziali è stato il sistematico oscuramento della faccenda riguardante il portatile di Hunter Biden una censura spuderata bella e buona perché si tratta di un fatto che avrebbe effettivamente potuto cambiare l'esito delle presidenziali americane decisione da parte dei dirigenti di Twitter dai quali si capisce bene proprio grazie a questi Twitter files che hanno deciso di bloccare la storia non con motivazioni pseudo giornalistiche nel cercare di capire se questa storia potesse essere vera o meno ma unicamente e spudoratamente per motivi di opportunità politica e allora dov'è che voglio arrivare questa è una storia che appunto come dicevo conferma quello che già sappiamo è inutile girarci intorno molto probabilmente in Facebook e in altri social funzionava e funziona tuttora così e quindi ci dobbiamo anche guardare da un altro nemico oltre allo Stato che è il nemico classico di noi liberisti e cioè queste grandi multinazionali che specialmente nel caso delle big tech parteggiano quasi tutte per il mondo progressista in generale un po' per opportunità e un po' per convenienza politica per ottenere diciamo un po' meno la clava un po' meno affilata quando le varie commissioni di inchiesta che giustamente si formano nei vari paesi cercano di tirare fuori e di mettere davanti alle loro responsabilità queste big tech non è l'unico caso in realtà non è solo una questione di social ci sono anche grandi realtà giornalistiche che si comportano in maniera spudoratamente di parte ne cito uno il new york times che di questa storia non ha minimamente parlato dei twitter files intendo e che non ci ha dedicato neanche un trafiletto di giornale noi purtroppo abbiamo a che fare con una concentrazione di potere enorme che collude con quello che per noi liberisti appunto è il nemico di sempre ma la cosa che fa più rabbia è che alcuni commentatori hanno il coraggio di definire tutto questo un effetto del neoliberismo ora purtroppo anche purtroppo c'è da dire che molte persone nel pubblico bombardate come sono dai mass media finiscono col cadere in questo tranello perché chiaramente non hanno magari il tempo di tenersi aggiornate di capire che certi problemi non dipendono affatto dal neoliberismo che non esiste peraltro ma che dipende unicamente da una concentrazione di potere la verità è che si tratta di un oligopolio di poche e grandissime aziende che cercando di mantenere le loro posizioni dominanti e che incidono pesantemente nel processo democratico distorcendolo lo fanno consapevolmente deliberatamente a favore di una parte specifica quella che ama appunto definirsi progressista qui però mi viene in mente il compianto Antonio Martino che diceva che dopo tutto un liberale è anche un po' progressista perché non c'è progresso senza libertà e in effetti storicamente il mondo progressista in passato ha anche aiutato a volte ad aumentare gli spazi di libertà di cui disponiamo oggi penso al divorzio al voto delle donne al soffragio universale e ci sono anche altre cause che ci accomunano a loro come l'eutanasia e la liberalizzazione delle droghe leggere all'esempio ma quindi noi abbiamo qualcosa in comune con queste perdonatemi l'espressione bastardissime big tech non direi proprio perché sono le stesse realtà che promuovono poi la cancel culture le stesse che promuovono l'ideologia gender nelle scuole americane e non sono le stesse che aiutano a propagandare le proposte fiscali della sinistra radicale le stesse che silenziano e censurano impunemente gli avversari e che si fanno quindi beffe della libertà di stampa e di parola le stesse che hanno una lettura completamente distorta e razzista della storia americana occidentale le stesse che supportano l'abbattimento e la vandalizzazione delle statue dei grandi personaggi della nostra storia e non solo i generali confederati ma anche lincoln churchill smith rhodes e tanti altri è progresso questo? assolutamente no e allora cari amici io come piccolo contributo di oggi vorrei proporvi nell'ottica della necessità di un grande partito liberista che batta anche su questioni culturali come ci ricordavano alcuni interventi prima di chiamare le loro cose con il nome e cognome a cominciare da questa non si tratta di neoliberismo si tratta soltanto di un oligopolio regressista grazie a tutti grazie grazie Diego la parola a Diego Zandel che non interviene mai ma penso che invece dovrebbe intervenire di più vengo spintaneamente è con piacere che prendo la parola anch'io ma voglio solo dire come sono il mio percorso politico come sono arrivato qui dunque bisogna partire ma sarò breve dalla mia origine io sono figlio di esuli fiumani nato in un campo profughi quindi il mio imprinting è stato anticomunista la prima cosa sono vittima del comunismo la mia famiglia e la mia terra e quindi si crea un altro problema crescendo io sono avevo vent'anni nel 68 c'è stato tutto un movimento libertario ed io mi sono avvicinato molto alla forza politica che era più anticomunista e in questo caso erano gli anarchici quindi sono entrato nella federazione anarchica italiana sono stato redattore di Umanità Nova che era il settimanale della federazione anarchica italiana e ho vissuto molto con gli anarchici ho conosciuto gente degnissima che ha combattuto durante il fascismo è stato in galera durante il fascismo al confino e li ho ammirati però ho visto che loro avevano un limite quello solo della testimonianza portavano la loro testimonianza della loro vita ma non c'era un cambiamento politico in atto qualche cosa che potesse cambiare veramente il mondo e in quel momento allora io mi sono avvicinato al partito socialista italiano credevo rispetto al partito comunista il partito socialista parlava di libertà si distingueva era il partito ovviamente socialista quello dopo che si era staccato dal partito comunista dopo i fatti di Ungheria e avevo creduto per una cosa perché accanto alla libertà di parola di pensiero di stampa tutte le libertà che noi conosciamo mi avevano messo la libertà dal bisogno e quindi pensavo che il socialismo potesse portare la libertà dal bisogno ma che cos'era questo bisogno questo bisogno era sostanzialmente quello che oggi noi combattiamo il reddito di cittadinanza perché in Jugoslavia tutti quanti avevano una piccola paghetta tutti quanti avevano un posto di lavoro fisso però finiva tutto lì mia zia sorella di mia madre che era rimasta con i miei nonni era rimasta in Jugoslavia aveva un'edicola vendeva non vedeva vedevano i giornali e le sigarette loro vendevano i giornali di sigarette vendeva non vendeva aveva quello stipendio lì e lì si innestava la corruzione perché il marito il marito che faceva aveva un altro posto di lavoro quando tornava dal lavoro prendeva il posto di mia zia all'edicola e lì cominciava visto che gli stipendi erano proprio da fame nel vero senso della parola ha cominciato a imbrogliare la corruzione i conti la sera e si intascava parte delle vendite dei giornali delle sigarette poi è stato preso mandato in galera eccetera quindi c'era una corruzione diffusissima c'era chi produceva il latte di nascosto perché il latte era comune c'era chi produceva il vino di nascosto e noi di nascosto clandestinamente andavamo a comprare il latte buono il vino buono perché quello della cooperativa quello statale faceva schifo perché nessuno ci lavorava non gli fregava niente perché quelle erano la paghetta a fine mese il vino buono il vino cattivo si vendeva non si vendeva questo allora ho capito che la libertà dal bisogno di cui dicevo io è la libertà che nasce dal lavoro dalla libertà dell'economia di crescere di fare impresa perché è quello che crea la ricchezza la ricchezza che poi può essere distribuita in altro lavoro in altre tante cose che noi vogliamo dalla vita le rose oltre diciamo oltre al pane perché loro si ti davano il pane ma non ti davano le rose e quindi eccomi perché dopo tanti anni anche grazie al mio confronto con mia moglie Alessandra sono arrivato ad essere un liberista convinto cioè un liberista che accanto alle libertà tradizionali dei liberali che tutti chiamano vuole anche la libertà economica la possibilità cioè di essere creatore di se stesso di lavoro quel lavoro cui dicevo io la libertà dal bisogno nasce solo se c'è lavoro non certo con la paghetta che ti libera dal bisogno forse ma ti dà la costrizione a pensare come quelli che ti danno la paghetta lo Stato perfetto Diego perfetto anche nei tempi grazie intervieni di più i nostri dibattiti io voglio salutare Enrico Morbelli che c'è venuto a salutare della scuola di liberalismo un grande liberale è una persona che fa tanto per quest'area grazie Enrico per essere venuto se vuoi dire due parole vai vai dillo a tutti certo allora la scuola di liberalismo è nata ormai nel 1988 siamo alla centodiciottesima edizione perché veniva fatta ogni anno in più posti ahimè causa covid la possiamo fare solamente l'abbiamo potuta fare solamente per attraverso mezzi elettronici la qualcosa ci ha permesso peraltro di raggiungere persone nelle isole un po' come diceva Iazzone quando vedeva le poltrone isole comprese quindi abbiamo trovato tre giovani liberali a Lipari quattro nel Gernagentu quindi la cosa anche funziona non c'è bisogno solamente del contatto visivo e fisico e quest'anno ancora faremo questa scuola partendo alla fine di gennaio e quindi vi invieremo tramite i liberisti una cosa che mi pare che sia in linea assoluta con quello che fate voi ma è una cosa che abbraccia tutti liberali di destra di sinistra di sopra e di sotto perché se cominciamo a fare le divisioni qui andiamo alla spaccatura dell'atomo quindi liberali nel senso più ampio possibile ma con un minimo di cultura del nostro mondo della nostra lunga civiltà liberale che nasce dall'Oc che la pigliamo da lontano sono 250 anni e ancora non ci hanno sconfitto grazie 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 veramente un un grande piacere che sei venuto ci arrivano i saluti dell'osservatore repubblicano vi dico che noi avevamo invitato anche il ministro Nordio qua che ci ha mandato un messaggio augurandoci buon lavoro ma è in Veneto lo avevamo invitato per le motivazioni che aveva detto Alessandro e siamo lieti di aver ricevuto una sua risposta di incoraggiamento e adesso possiamo dare la parola dopo Diego Zandel a Stefano Berruti si prepara Cristina Sparvieri Enrico Marinoni scusate e Cristina Sparvieri poi Giuseppe e così via cari amici liberali e liberisti sono un po' stanco quindi leggo normalmente cerco di parlare a braccio ma mi sono alzato presto stamattina quindi sono venuto a dirvi qualcosa che già volevo dire a Milano ma poi a Milano non sono riuscito a venire qualcosa che nasce dalla consapevolezza che in Italia sono circa 50 anni che hanno messo su questo sistema finto buono il grande stato sociale e via dicendo in realtà è utile soltanto per i signori che ci campano che a vario titolo gestiscono questo sistema e con prebende varie poi sfrangiano ai livelli sottostanti così qualcosa che paghiamo noi che invece produciamo e che con una tassazione folle contribuiamo a tenere in piedi quindi c'è anche questo siccome siccome sono una persona pratica io faccio l'imprenditore sono abituato a risolvere problemi non sono venuto qua a parlarmi addosso in un circolo diciamo elitario di persone illuminate che capiscono che esiste un'alternativa alla vergogna che ci sta mangiando vivi sono venuto qua per dare il mio contributo in senso pratico perché credo fondamentalmente che in Italia manchi differentemente da quello che ho sentito prima esiste invece una grande potenzialità per la nostra idea perché c'è una massa grigia c'è la massa oscura di elettori che non va a votare che secondo me sono almeno un 20% in Italia di persone disilluse da tutto e da tutti che semplicemente non vanno a votare io sono stato uno di quelli per molto tempo adesso ho provato a votare contro voglia e con la nausa la Meloni giusto per non vedere più il PD al governo ma non cambia niente e non cambierà niente con questi qua in realtà hanno una torta enorme che si spartiscono e che hanno tutto l'interesse a continuare a mandare avanti da sinistra alla cosiddetta destra che non esiste in Italia si è tutta sinistra cari amici liberisti sono venuto qui oggi non per ribadire quanto lontano dal nostro ideale sia lo Stato italiano o per indignarmi di fronte a questo o a quel procedimento assurdo emanato dall'agenzia di turno la situazione ormai drammatica economicamente in cui ci dibattiamo noi che siamo soprattutto sprofessionisti e imprenditori e cosa nota inoltre si aggiunge anche la consapevolezza beffa tra le beffe che siamo proprio noi con il gettito fiscale che produciamo a tenere vivo e vegito il mostro che ci perseguita e che impedisce al nostro Paese di decollare il nostro Paese potrebbe volare per le potenzialità che ha ma evidentemente è davanti agli occhi di tutti lo sfacelo che abbiamo dobbiamo anche prendere atto che questo Stato ha cominciato a prendere forma già dai primi anni 70 e che al suo servizio all'istruzione è direi almeno il 90% dei media tutti schierati a formare la mente critica delle nuove generazioni ed a rimbambire le esistente a creare falsi miti nell'opinione pubblica e a sviare la medesima da possibili alternative all'ordinamento attentacolare che condiziona pesantemente le nostre vite in un sistema sano esisterebbe una sinistra che rema per il più Stato ed una destra che invece contrasta questa idea con il più mercato da noi invece tutti i partiti sono per il più Stato e sostanzialmente hanno tutti in mente un modello socialista di sviluppo evidente che sia così come è evidente che tutto ciò faccia parte di un disegno utile solo a chi ha le retini del potere a danno di chi realmente produce è utile alla grande impresa che invece trova nei canali statali la via maestra per il capitalismo di relazione l'impoveramento del tessuto medio della borghesia italiana ne è purtroppo l'evidenza come in Sud America solo super ricchi e tutti poveri quasi tutto il Sud America per evitare dunque di parlarci addosso e di rimanere in un gruppo di ininfluenti visionari dobbiamo dunque scendere a un livello pratico e oltre a darci degli obiettivi politici dobbiamo capire quale deve essere il nostro atteggiamento per aumentare il numero dei nostri iscritti e dunque la nostra possibile influenza nel panorama politico italiano cominciamo con il dire che esiste una massa oscura lo dicevo prima di non votanti che stima in un buon 20% che semplicemente non va a votare perché non ha più nessuno che la rappresenta ed esiste un altro buon 10% secondo me di elettori dell'attuale destra che preferirebbero di gran lunga una destra liberale all'attuale destra sociale la prova di tutto ciò fu il plebiscito del 93 di Berlusconi a quei tempi Berlusconi si era realmente proposto con un vero liberale e fece il pieno aveva tutto Berlusconi in quel periodo ritengo essere e adesso vengo al punto nodale sono breve ma questo è molto importante per me ritengo di essere due gli aspetti pratici sostanziali che dobbiamo perseguire se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di crescita il primo è rimanere coerenti duri e puri non fare alleanze più cresciamo e più arriverà qualcuno che ci dirà ci porgerà la mano perché chiaramente gli interessa a tutti interessa l'area liberale questo è evidente noi dobbiamo rimanere invece duri e puri e sono certo mi sento ben tutelato da Andrea Bernardo che ritengo una persona di grandissima onestà intellettuale e dalla chiarissima visione politica anche in questo caso la coerenza e l'intransigenza sono le caratteristiche che hanno portato la Meloni a crescere al 2,5% all'attuale maggioranza la Meloni va dato atto è andata per la sua strada è andata all'opposizione e è stata premiata perché è andata al potere il secondo ed è il punto più importante evitare in tutti i modi di dividerci su questioni secondarie guerre pandemie dove ci stanno quelli che alzano la voce come sono anche io e come altri ma da quello che ho visto il 50% la penso in un modo il 50% in un altro sono ognuna di queste questioni specifiche la Russia i green pass vari quindi bisogna evitare di disperdere quello che è il nostro patrimonio che è il numero dei nostri iscritti concentriamoci dunque sulla nostra idea di meno stato andiamo compatti su questo perché questo ci unisce realmente e ci fa crescere e ci fa diventare attrattivi per tante altre persone dunque considerate che dall'altra parte i nostri avversari sono compatti nel difendere l'attuale modello statale seppur con differenti motivazioni ed argomentazioni come pensiamo di proporre qualcosa di alternativo se cominciamo a dividerci e a litigare su altre questioni ripeto secondarie rispetto alla nostra idea principale di riassetto statale dobbiamo proprio in questo caso dimostrare la nostra visione liberale che lascia ampio spazio critico a tutti i suoi membri su questioni per le quali nessuno di noi ha la realtà in tasca anche perché è talmente complessa che e concludo vi chiedo dunque di munirvi di una certa dose di furbizia e di tolleranza lo dico a me per primo che molto tollerante non sono ma sono profondamente convinto che su questo punto la nostra marcia compatta verso la crescita sia assolutamente fondamentale per il raggiungimento del successo senza quello continuiamo a parlarci addosso grazie grazie devo dire che sono sono anch'io d'accordo sul fatto di unirci sui temi che ci hanno sempre caratterizzato di più allora adesso do la parola a Enrico Marinoni segue segue Cristina Sparvieri Giussi Pesce Sorrentino e poi dopo gli altri quindi dopo Giussi Pesce Sorrentino che deve partire purtroppo buonasera a tutti vai Enrico qualche numero su quanti slide hai fatto 87 eh 24 però cercherò di essere veloce allora socialisti o liberisti in sostanza il paese al contrario lo chiamo perché questo è un paese al contrario dove ci sono riuniti tutti i partiti dalla destra alla sinistra dobbiamo cominciare a pensare diversamente dobbiamo cominciare a fare come fece Reagan con il muro di Berlino cioè abbattere il partito unico del più stato ma perché noi abbiamo una proposta eh che ha che ha reso ricchi e grandi i più ricchi e grandi paesi al mondo diamo qualche dato allora ho preso il reddito medio pro capite non il PIL perché il PIL può essere influenzato dall'andamento demografico ehm i paesi che hanno il reddito medio pro capite più elevato sono paesi che hanno in comune l'essere liberisti noi abbiamo 35.000 dollari di reddito medio pro capite ma come è evoluto questo reddito medio pro capite negli ultimi 20 anni questi sono i dati indovinate chi è meno 2,59 ho messo tutti i paesi occidentali più qualche paese emergente ovviamente l'Italia del disastro del paese del partito unico del più stato perché perché il reddito perché siamo più poveri in 20 anni e siamo gli unici negli anni in cui il mondo è cresciuto perché questa è la spesa pubblica aggregata è uscito proprio due giorni due giorni fa questo dato c'è un sito dell'agenzia per la coesione territoriale che pubblica tutta la spesa pubblica quindi quella governativa regionale provinciale comunale e quella del parastato municipalizzato eccetera guardate questi numeri 654 miliardi nel 2000 1.102 miliardi nel 2020 cioè dal 2000 al 2020 la spesa pubblica è aumentata del 68 31% in anni in cui l'economia non è cresciuta il rapporto al PIL siamo a due terzi 66,38% allora è vero che in questo periodo c'è stata un'inflazione del 34% ma sento dire ma la spesa pubblica è PIL non è così solo il 36% della spesa pubblica è PIL quindi qualcuno potrebbe dire eh ma siamo cresciuti meno male che c'è stato lo Stato no è proprio il contrario e ancora qualche numero c'è una relazione allora se vuoi dire anche un'altra cosa nei prossimi anni la spesa pubblica aumenterà ancora perché sono state autorizzate spese guardate qua da 852 miliardi a 1.124 miliardi quindi un ulteriore 31% nei prossimi sei anni c'è una relazione diretta fra spesa pubblica e povertà questi sono i dati sulla povertà ma prima volevo dirvi che perché è un male aumentare la spesa pubblica perché c'è la curva di Armey che è molto simile alla curva di Laffer sulle tasse che indica come una tassazione più o meno stimabile intorno al 30 32 scusate una spesa pubblica stimabile 20 25 30% è difficile comunque quantificare rende diciamo contribuisce alla crescita economica quando aumenta e noi siamo al doppio di questi valori sia sulla spesa pubblica che sulla tassazione l'economia crolla c'è una relazione diretta dicevo fra spesa pubblica e povertà guardate cosa è successo per la povertà in Italia il 3,2% della popolazione era in povertà assoluta 20 anni fa oggi siamo al 9,5% quindi è triplicata la povertà e un italiano su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale ci ricorda Rega che più i pianificatori pianificano e più i piani falliscono infatti non è bastato un incremento della spesa pubblica hanno inventato anche il PNRR e guardate anche in questo caso i numeri non tanto il diciamo i fondi a fondo perduto dove sono più o meno distribuiti in tutta Europa guardate i prestiti Italia è prima 127 miliardi la Germania la Danimarca il Belgio eccetera meno di un miliardo un motivo ci sarà per cui ovviamente prestito non hanno non hanno chiesto molto quindi ci hanno abituati a pensare a destra o sinistra ma la vera divisione dovrebbe essere stare su o giù cioè meno o più Stato cioè liberismo o socialismo nessuno ovviamente fa le cose meglio del settore privato dell'economia quindi cerco di essere veloci perché le slide sono molte come do you do that I mean how do you balance the budget balancing the budget is like protecting you don't spend more than you take in right it's like protecting your virtue you have to learn to say no there's gotta be another way what's the second option si si vediamo allora quale quale dovremmo quale spesa pubblica dovremmo tagliare è più probabile cioè più facile dire che bisognerebbe domandarsi al contrario quale spesa pubblica dovremmo mantenere Reagan soleva dire considero tutte le proposte di intervento statale con mente aperta prima di votare no ancora c'è una gabbia dello stato lui diceva che un sistema di welfare efficiente è quello nel quale le persone che escono sono più numerose di quelle che entrano ovviamente invece qua in Italia ovviamente si tende a fare il contrario allora cosa dovremmo fare a madre di tutte le riforme sarebbe la costituzione bisognerebbe introdurre un limite al politico costale analizziamo le spese pubbliche allora la spesa pubblica principale è quella per previdenza secondo me un liberale dovrebbe considerare necessarie le tre spese in verde cioè sicurezza pubblica difesa e giustizia mi pare difficile immaginare anche se tutto è possibile qualcosa di privato in questo settore il resto sono dei gravi errori cioè la prima spesa è quella per previdenza continuano a tentare di correggere gli errori del problema senza soffermarsi sull'origine del problema l'origine del problema è l'INPS che io chiamo Istituto Nazionale Ponzi Scheme schema Ponzi lo schema truffa più grande al mondo non è possibile non è possibile avere questo sistema che non consente la libertà appunto di capitalizzare ma dobbiamo ripartire le somme accumulate stringo sanità sappiamo tutti in che stato sia la sanità sarebbe più interessante adottare il sistema svizzero delle polizze assicurative obbligatorie senza fini di lucro con lo Stato che paga l'Italia è sempre aumentata penso che tu l'hai visto al contrario di quello che dicono sì sì 119 miliardi poi ancora l'istruzione un liberale chiede il buono scuola secondo Porro lo Stato paga ogni studente ogni studente costa 10.000 euro io ho fatto altri calcoli comunque se anche fossero i miei calcoli veri 7.000 euro sarebbe più interessante dare questi soldi alle famiglie e permettere alle famiglie di scegliere effettivamente se spenderli per una scuola pubblica e privata stimolando la concorrenza nel settore anche questo è un settore totalmente da riformare si dovrebbe vivere in un mondo migliore normale di solo botteghino e invece non è così in quel settore poi ancora il nucleare sto arrivando alla fine in sostanza parlano di transizione ecologica ma hanno in mente solo la transizione di altri soldi dalle nostre tasche chiudo stiamo arrivando un altro tema alla pressione fiscale il 20% della popolazione paga il 60% del gettito IRPEF anche questa è un'anomalia che dovrebbe essere rivista ancora i problemi della banca centrale questo è un grafico che dimostra come l'inflazione sia stata causata dalla massa monetaria prodotta soprattutto nel 2020 dalle banche centrali eccesso di interventismo anche in questo caso di tipo socialista ha prodotto la più iniqua delle tasse con i dipendenti della banca centrale europea che stanno chiedendo la scala mobile arrivo questa è una vera vergogna gli unici che dovrebbero avere un aiuto da parte dello Stato hanno la misera di 287 euro cioè gli invalidi questa è una cosa che ho preso dal nostro amico Ugo Rosenberg lo Stato secondo me dovrebbe essere considerato il più grande femminicida d'Italia perché non regolamentando la prostituzione in Italia ci sono una media di 16 donne uccise l'anno nessun evento o pochissimi eventi in Olanda in Austria e Svizzera ok fine finito ok grazie Enrico io penso che poi chi vuole continuare a verificare questi dati può chiamarlo in privato perché ha 77 slide che dimostrano lo sfascio statalista io chiedo la pazienza a quelli che si sono iscritti che ci sono delle persone che devono partire allora volevo dare la parola a uno dei nostri giovani ciao Diego Gianmarco Nardini che si è iscritto successivamente aderito al glorioso comitato Iampala cui presidente poi interverrà successivamente il nostro Ranucci vai che devi partire grazie Gianluca per avermi insomma dato la possibilità di anticipare il mio intervento perché purtroppo sono di Modena quindi subito dopo devo scappare comunque si è abbassato un po' il range di età gli ultimi interventi quasi tutti anzi tutti sono stati di persone comunque già formate persone già integrate nel mondo del lavoro io invece rappresento una categoria decisamente decisamente più in fascia rispetto alle vostre però credo comunque che la rappresentanza giovanile sia importante quindi il mio intervento che sarà breve non sarà tanto inerente a dati numeri questioni economiche perché chi mi ha preceduto è già stato più che la palissiana a riguardo sarà più un intervento nel merito riguardante proprio i giovani e l'azione dei giovani poi sicuramente il nostro Gianluca il nostro presidente di comitato che vedo là in fondo a cui farei un applauso sarà più chiaro di me nell'esporre gli ideali del nostro neonato movimento studentesco e nell'introdurlo quindi di questo progetto vorrei partire un po' come avevo fatto anche qualche settimana fa quando ci fu una diretta facebook in cui ne parlammo dal martire perché io lo definirei martire che ha dato il nome al comitato giovanile di liberisti italiani Jan Palakt un ragazzo che aveva più o meno la mia età io ho 19 anni quando nel gennaio del 1969 si diede fuoco in piazza San Vaceslao per denunciare i crimini e l'oppressione del regime sovietico che da anni stava perpetrando nella sua nazione e quindi credo sia importante ricordare questo eroe soprattutto per tenere ben presenti quelli che sono i valori che ci spingono quelli che sono i valori che fanno da corroborante a questo neonato movimento studentesco giovani è una parola che è una parola ambigua perché suscita un mix di emozioni no sfiducia da una parte e fiducia quasi eccessiva anche dall'altra parte in realtà i giovani soprattutto per un partito che è nato da poco come liberisti italiani che è nato comunque da quasi tre anni sono la linfa i giovani sono il cuore la benzina senza la quale qualsiasi partito qualsiasi movimento non riuscirebbe ad ergersi in piedi i giovani sono le fondamenta dell'azione politica ed è dai giovani che noi dobbiamo partire se veramente vogliamo riuscire a realizzare quella tanto agognata rivoluzione liberale che giustamente ci siamo prefissi di raggiungere e quindi si erge su di noi una grossa responsabilità su di noi come movimento come movimento giovanile perché la politica studentesca allo stato attuale è spaccata in due da una parte un'estrema sinistra una sinistra lontanissima distante anni luce dalle vere esigenze di libertà dei ragazzi e dall'altra parte invece una destra reazionaria sociale ho sentito dire prima credo sia il termine giusto per etichettarla che se poi uno va a vedere nel concreto le reali proposte che questa destra porta avanti ecco si rende conto che poi non sono così tanto distanti dalle proposte dell'altra controparte quindi della sinistra studentesca allora allora il nostro scopo il nostro obiettivo vuole essere quello di creare un nuovo polo un'alternativa a tutto questo un polo che si ponga in contrapposizione con la sinistra da una parte studentesca distante da questi valori dai nostri valori e dall'altra parte una destra sociale che allo stesso modo non rispecchia i valori in cui noi crediamo quindi un polo un'alternativa che si ispiri al mondo guardando al mondo adulto di Margaret Thatcher di Ronald Reagan di tutte quelle personalità che sono stati i padri e anche le madri del liberismo e del liberalismo quindi questa è la nostra sfida sarà un percorso lungo un percorso difficile ma noi ci crediamo la determinazione c'è ci stiamo strutturando siamo già un gruppo meraviglioso io ci credo io credo in tutti noi guardo ai ragazzi del comitato giovanile per cui viva l'Italia dei giovani e viva la libertà grazie 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 ecco lui è uno dei nostri giovani del comitato Jan Palak che veramente siamo orgogliosi di questi ragazzi che tra l'altro ci hanno cercato loro attenzione non è che ci hanno visto a porta a porta hanno cercato di capire se in Italia esistesse un partito liberista ci hanno trovato che così funziona da noi ci hanno osservato e successivamente si sono iscritti questo è quello i miracoli che accadono da noi adesso prende la parola Nicola Sorrentino Nicola Giorgio Sorrentino che ha fondato di recente il comitato territoriale il comitato Milano buon pomeriggio a tutti allora cerco di andare veloce perché ho scritto troppa roba quindi 5 minuti velocissimo allora sono Nicola Sorrentino presidente del neonato comitato Milano dei liberisti italiani come consiglio Milton Friedman al compianto professor Martino si può scendere a patti su tutto ma non sui principi fondamentali per questo noi abbiamo scritto a quattro mani con Fabio Ronchi un documento che riporta i punti centrali su cui gli appartenenti al nostro comitato devono concordare per potersi iscrivere allora noi siamo ovviamente liberali liberisti e di cosa noi riteniamo per liberale e liberista ve lo dico dopo siamo per uno stato italiano minarchico nel senso di Nozic che credo tutti conoscete e confederale sul modello svizzero cerco il nostro amico Veneto ma non lo trovo più siamo per ribadire il posizionamento dell'Italia nella cultura e nella politica occidentale e quindi nella Nato perché fuori dal modello delle libertà occidentali non c'è alcun liberismo di cui parlare altro che non prendere posizione su questi temi questo è fondamentale riteniamo che l'Unione Europea attrazione popolar socialista si stia trasformando a nostro avviso in un super stato simile a quello italiano burocratico antiscientifico invadente illiberale ed in prospettiva costoso e dannoso pur non volendo abbandonare questo organo sovranazionale che a certe condizioni riteniamo utile se non necessario addirittura riteniamo però che ogni sforzo sia necessario per poterlo far evolvere a Milano abbiamo costituito un comitato democratico il 7 dicembre giorno di Sant'Ambrogio noi faremo le elezioni e quindi io sono qua per un anno non mangerò il panettone come si suol dire in gergo calcistico ora veniamo al cuore della faccenda invece per cui siamo tutti qua cioè com'è che si spiega il pensiero liberale in un contesto catto comunista come quello italiano allora io credo di potervi dare queste nostre due visioni sempre citando Antonio Martino perché due sono le grandi argomentazioni che a sinistra i sinistri e i cattolici ci pongono primo che il mercato determina anzi amplifica le divaricazioni la disuguaglianza il secondo che la tutela del mercato è la tutela dei ricchi bene alla prima di queste osservazioni cioè quella sul fatto che il mercato aumenta le divaricazioni sociali noi dobbiamo essere capaci di rispondere e io credo che si debba rispondere dicendo che le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione nei paesi capitalisti sono infinitamente migliori di quelle dei paesi che rifiutano la libertà di mercato è un errore ritenere sempre semicitando il professor Martino che siano le intenzioni a determinare i risultati mentre il rimedio possa facilmente essere trovato grazie a nobili propositi i poveri sono stati molto più efficacemente aiutati dall'avidità dei grandi capitalisti che hanno creato attività produttive e opportunità di lavoro rimunerato che non da nobili sentimenti degli altruisti che incapaci di produrre reddito possono impegnarsi nella carità solo grazie alla generosità dei capitalisti alla seconda quella sull'essere la tutela del mercato e la tutela dei ricchi anche lì dobbiamo essere capaci di rispondere allora è chiaro che le finalità dell'azione politica sono uguali a tutti nessuno vuole la miseria le malattie la disoccupazione la stagnazione non la vogliamo certo nemmeno noi quello che divide la scelta dei mezzi allora non sono state intenzioni malvagie dice Martino a dare vita a questo vergognoso scandalo che viene chiamato stato sociale che mentre costa cifre astronomiche e ingrassa un certo politico burocratico parassitario il corrotto si guarda bene dall'aiutare chi ha veramente bisogno lasciatemi chiudere con una frase di Ronald Reagan il socialismo può funzionare solo in paradiso dove non ne hanno bisogno e all'inferno dove l'hanno da sempre grazie adesso diamo la parola a Cristina Sparvieri presidente del comitato Margaret Thatcher anche lei una dei nostri dirigenti che si impegna moltissimo per diffondere le nostre idee soprattutto qui su Roma liberisti liberisti inconsapevoli buonasera la prima volta che partecipai alla nostra assemblea qui a Roma proprio qui in questa sala ero una mera spettatrice mai avrei pensato di tenere un discorso tantomeno di ricoprire il ruolo di presidente del comitato Margaret Thatcher ricordo come sono stata coinvolta e ricordo esattamente le parole del nostro presidente Andrea Bernardo che ha risvegliato il liberista in me con una piccola provocazione Sparvieri sei un avvocato penalista come fai a non essere liberista a parte la rima quella fu la mela che cadde sulla mia testa e mi diede da pensare un avvocato penalista difende l'individuo dal potere dello Stato verificando il rispetto delle regole processuali e portando all'attenzione dell'autorità giudiziaria i singoli dettagli del caso concreto per far sì che lo stesso venga assolto o si veda applicata una pena congrua Bruno Leoni disse che la libertà non deve essere solo un concetto economico o politico ma deve anche essere un principio legislativo e gli operatori di diritto non possono più parlarne in modo timido parto da un concetto generale ben noto a tutti o almeno spero che sia noto a tutti lo Stato deve essere minimo ossia deve abbandonare il suo interventismo nel settore economico per dedicare le proprie risorse esclusivamente nel garantire quei servizi che il singolo cittadino non può porre in essere da solo in modo efficace giustizia sicurezza e difesa a mio modo di vedere e questo lo disse anche la Thatcher si è veramente liberi quando si è sicuri del fatto che uscire di casa non comprometta la propria incolumità e nel sapere che chiunque commetta un reato subisca un giusto processo che gli venga applicata una pena certa che il suo trattamento penitenziario non sia disumano e che soprattutto quel processo non diventi un'agogna mediatica dalla fase delle indagini preliminari in egual modo si è veramente liberi quando la proprietà privata intesa in senso generico ricomprendendo anche i beni fungibili risulta riconosciuta e soprattutto tutelata dalle ingerenze altrui per questo il giudice deve essere terzo ed imparziale nel derimere le pretese tra i singoli anche il processo civile presenta la medesima criticità del processo penale che nel primo caso colpisce la disponibilità patrimoniale e gli affari dell'individuo nel secondo la sua libertà e dignità questa criticità ormai ben nota consiste nell'inaccettabile durata del processo che può portare a decisioni ingiuste sia per l'innocente che per la vittima stessa del reato che talvolta vede il suo carnefice prosciolto per prescrizione ma a causa danni anche allo stesso colpevole che dopo svariati anni dalla commissione del fatto si ritrova a dover scontare una condanna proprio dopo aver intrepreso un percorso autonomamente un percorso rieducativo si è trovato un lavoro si è creato un nucleo familiare stabile ha fatto ammenda e così via diversamente dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra da noi vi è scarsa consapevolezza del fatto che i soldi dei contribuenti vengono utilizzati per la giustizia e se questa è lenta e farraginosa ne rispondiamo tutti e non solo colui che è scritto nel registro degli indagati o chi è intentato una causa si possono aumentare le pene dei singoli reati si possono introdurre nuove fatti specie di reato ma se la legge penale non viene attuata se la giustizia non dà una risposta celere e se i singoli non vedono concretamente che sia fatta giustizia il lavoro del legislatore resta vano così come la depenalizzazione la schizofrenica modifica delle norme e addirittura sento parlare ormai la rottamazione dei processi troppo risalenti nel tempo non sono una risposta idonea al problema ma anzi sono dimostrativi del fallimento del sistema giudiziario tali strumenti non impediscono affatto che il medesimo problema si ripresenti nel futuro ciò che deve essere effettivamente modificato è l'organizzazione degli uffici giudiziari volta a rendere efficiente e celere la macchina giudiziaria per garantire quei principi noti del processo penale ragionevole durata e oralità ed anche per alleggerire l'attività dei singoli giudici mi spiego meglio un giudice tratta dai 15 ai 30 processi al giorno del ruolo e di ciascuno si occupa di singole frazioni o frasi per poi trovarsi nelle prime ore del pomeriggio ad affrontare diverse conclusioni la cui istruttoria dibattimentale si svolgeva anni prima ciò significa che l'attenzione non è focalizzata su un singolo processo e viene costretto a ristudiarsi diverse volte il medesimo fascicolo per ricordarsi che cosa era successo anni prima un caro amico e stimato collega mi ha fatto notare che la commissione Lattanzi ha proposto per la riforma del processo penale l'istituzione di un interessante ufficio si chiama l'ufficio del processo penale che letteralmente permette di offrire al giudice un supporto di collaborazione in tutte le fasi e i momenti della sua attività volta ad agevolarne l'attività conferendogli quindi di una sorta di organizzazione di impresa un po' un modello organizzativo bene sappiamo tutti che il mancato rispetto di un modello organizzativo per quanto riguarda un'impresa privata comporta delle responsabilità allora analogamente sarebbe opportuno cominciare con responsabilizzare chi si occupa già dell'organizzazione dell'attività processuale e se la responsabilizzazione del funzionario pubblico fosse la vera soluzione di tutti i nostri problemi vi lascio con questo quesito ricordandovi che tra poche settimane comincia l'anno nuovo e quindi rinizia la campagna di iscrizione al movimento liberisti italiani e se qualcuno di voi si sente tacceriano sa benissimo chi contattare grazie grazie Cristina complimenti soprattutto per il tuo attivismo e per la tua capacità organizzativa oltre che per i contenuti sempre brillanti allora adesso io darei la parola a Giussi Pesce e si prepara poi finalmente anche Gianluca Ranucci Francesco Malvetani e il nostro Giacomo Canale vai Giussi ovviamente membro di direzione fin dall'inizio buonasera a tutti vorrei innanzitutto aggiungere un tema brevissimamente all'intervento di Cristina Cristina ascoltami ancora un attimo ti prego la giustizia tributaria nella giustizia tributaria il giudice ahimè è al libro paga del MEF che è una parte del processo tributario la terzietà del giudice è completamente sparita mi raccomando ricordiamoci anche di questo ok è un po' una deformazione professionale allora mi fa piacere di prendere la parola un po' dopo Enrico che ci ha dato una pletora di dati velocemente e che quindi mi consente di fare su questi dati senza doverli ripetere delle osservazioni di carattere politico il tema che aleggia qui in questa assemblea ma non è che aleggia è proprio pesantemente presente è qual è definire qual è il nostro ruolo come liberisti italiani in un momento in cui sono cessati e cessata la successione di governi socialisti in questo paese tecnici semi tecnici e comunque non usciti dalla volontà degli elettori per far spazio ad un governo che invece è è stato indicato nelle ultime elezioni con la la premier Meloni governo questo che si è insediato grazie a una vittoria elettorale quindi cosa vogliamo concludere vogliamo tutto questo ci fa pensare che i socialisti siano stati messi finalmente a palo cioè che i sostenitori della superiorità di tutte le scelte del potere pubblico contro la libertà di scelta individuale in nome del famoso bene comune gli intralciatori della libertà d'impresa i tartassatori indefessi i redistributori cronici della ricchezza da noi prodotta ogni giorno i costruttivisti i regolamentatori folli che creano regole e inventano costosi organismi per farle rispettare cioè questo mostro che è la burocrazia sono al palo sono stati sconfitti dall'esito elettorale gli italiani in effetti non li hanno premiati e quindi lasciamoli alleccarsi le loro ferite però c'è da chiedersi quanto ci sia nel DNA del governo appena insediato dei nostri valori cioè la difesa della libertà to cure e della libertà d'impresa sulla quale insistiamo così tanto perché come sapete siamo convinti che solo se si crea un ambiente favorevole agli investitori e ai produttori si può pensare di crescere in maniera sana e del resto da Einaudi alla Thatcher non può esserci senza libertà economica e ancora la domanda famosa della Thatcher ci sarebbe davvero libertà di stampa se tutte le cartiere fossero in mano allo Stato quindi l'importanza della libertà economica e noi sappiamo da che cosa è minacciata la libertà economica in Italia la libertà d'impresa da decenni di crescente statalismo di pervasivo intervento dello Stato in economia attraverso innanzitutto una pressione fiscale espropriativa che sottrae risorse all'impresa per cui sono assolutamente favorevoli alla proposta che ci è stata indicata da Enrico prima da Reagan scusami e poi da Enrico di inserire un limite alla tassazione in Costituzione perché appunto la tassazione non diventi espropriativa una spesa pubblica che come sappiamo ha superato i mille miliardi è sempre crescente è sempre meno produttiva cioè sempre più improduttiva quel che è peggio orientata all'assistenzialismo che però attenzione non deve essere considerata come sempre sento dire o comunque come è sottinteso una variabile indipendente a cui adeguare tutto il resto della baracca per farla stare in piedi come se non fosse possibile modificarla da questo noi dobbiamo partire e deve essere un messaggio forte che si deve accompagnare e deve affiancare la richiesta di una riduzione drastica shock della pressione fiscale quindi lungi da me indicare semplicemente per non commettere le loro delle trass l'unica via da percorrere che l'unica via da percorrere sia quella della riduzione della pressione fiscale essa deve essere scioccante perché deve consentire all'economia di ripartire sì è vero ma deve essere ovviamente accompagnata come abbiamo detto tutti ormai qui oggi da una riduzione della spesa pubblica che deve e può essere perseguita vi faccio un esempio abbiamo detto che la spesa pubblica è mille miliardi quest'anno è arrivata a mille miliardi quale imprenditore non è in grado di ridurre il proprio budget del 5% tutti credo altrimenti non starebbero in piedi ove necessario sono in grado di farlo ora il 5% di una spesa pubblica di mille miliardi quant'è signori è 50 miliardi quante cose si possono fare riducendo la spesa pubblica di 50 miliardi di quanto si può ridurre la pressione fiscale se si sceglie però di ridurre l'intervento dello Stato nell'economia cioè se lo Stato non si arroga il diritto di redistribuire di togliere dalle vostre tasche i denari che avete guadagnato e redistribuirli con bonus e assistenze ma si limita a ridurre la propria pressione fiscale quindi si limita a lasciarvi più soldi in tasca sul saldo di bilancio dello Stato se riflettiamo l'effetto è lo stesso se si riducono le spese o si riduce la pressione fiscale cioè se noi rinunciamo a distribuire bonus ma invece di fare così facciamo il bonus più perequativo di tutti cioè riduciamo di qualche punto le aliquote fiscali l'effetto potrebbe essere lo stesso d'accordo? C'è una cosa su cui voglio voglio insistere a proposito di riduzione della spesa pubblica non cadete nel tranello di chi vi dice non è possibile ridurre la pressione fiscale finché se prima non si riduce la spesa pubblica le due cose vanno fatte di pari passo e proprio perché il nostro scopo è quello di far ripartire l'economia lo shock fiscale deve essere un vero shock e qui scopro le mie carte perché devo dirvi che io sarà anche un sogno ma vorrei fare dell'Italia addirittura un paradiso fiscale quindi è una cosa che fa un po' sorridere adesso però però è qualcosa che si potrebbe attrarre nuovi investimenti naturalmente insieme ad una giustizia che funziona insieme a una burocrazia quasi sparita è ovvio che questo è l'unico terreno percorribile e come farlo? noi partiamo da una proposta un minuto noi partiamo noi partiamo da una proposta di flat tax al 15% su tutte le attività produttive perché? perché questo sistema fiscale non non sia distorsivo nei confronti degli imprenditori che devono poter scegliere con quale forma fare impresa se come imprenditori individuali come società di persone di capitali senza essere deviati dalla normativa fiscale ma questo è solo il primo passo è chiaro Andrea che io vorrei una flat tax per tutti è evidente vorrei un sistema di tassazione proporzionale che diventa nel suo insieme progressivo grazie a una no tax area piuttosto elevata e invece del reddito di cittadinanza vorrei l'imposta negativa non ho il tempo di spiegarvela ma è un'idea un istituto di cui parlò Friedman che avrò modo in qualche altra assemblea di spiegarvi per bene questo governo quanto di tutto questo sta facendo e veniamo al punto anche nella sua anche nella sua nei suoi atti iniziali che sono stati dei 35 miliardi di manovra i 21 miliardi sono stati dedicati al caro energia e alla lotta all'inflazione anche in quello a mio avviso nonostante tutti dicano cosa poteva fare cosa poteva fare in poco tempo non poteva fare nulla di più in realtà si poteva fare qualcosa di diverso anziché continuare con i sussidi al consumo di energia in un mondo in cui l'energia scarseggia è chiaro che continuare a sussidiare i consumi invece di aumentare l'offerta di energia o di rendere meno costosa l'energia con politica dell'offerta come le liberalizzazioni proprio sul mercato dell'energia non è la misura giusta dobbiamo spostarsi spostarci da politiche assistenziali che sussidiano i consumi a politiche dell'offerta che consentono di aumentare o rendere meno costosa l'offerta quindi l'uscita dal tutelato oppure la messa a gara dei servizi pubblici locali di trasporto pubblico locale la cessazione dobbiamo perseguire la cessazione dell'intrusione dello Stato nelle scelte private di consumo dei cittadini sia dal punto di vista regolatorio che fiscale le accise sul tabacco dobbiamo dare la possibilità di vendere i farmaci del gruppo C oggi in Italia molto più cari che in Europa dove in Europa si spende 16 noi spendiamo 23 anche al di fuori delle farmacie tradizionali purché sia presente un farmacista cioè tutte queste norme che vanno all'insegna che ci spingono verso la maggior concorrenza e che costituiscono il fondamento delle politiche dell'offerta avrebbero potuto essere quantomeno iniziate adesso quantomeno affiancate a tutta questa politica di sussidio al consumo che fra l'altro sconvolge anche il sistema dei prezzi perché se io non ho un prezzo più alto che mi guida nella mia scelta continuerò a consumare a spese della comunità con un incremento del debito pubblico ormai insostenibile anche ciò che invece scarseggia quindi tutta questa mentalità di deviazione dalle regole del mercato andrebbe rivoluzionata e qui arriviamo noi a rivoluzionarla quindi vi ho parlato della riduzione della pressione fiscale ma avrei anche e della nostra ho appena accennato alla nostra proposta di flat tax ho detto anche che mi piacerebbe che la flat tax fosse per tutti e che il sistema fosse improntato alla proporzionalità per quanto possibile ma ci sono anche tante altre cose che renderebbero questo paese un paradiso come diceva il nostro Stefano Berruti perché le capacità e l'imprenditorialità qui in Italia c'è per esempio c'è una norma sulla tassazione dei dividendi che non consente all'imprenditore di beneficiare di ciò che ha prodotto perché in Italia i dividendi sono tassati i dividendi che sono già utili tassati delle imprese delle società vengono tassati di nuovo al momento della distribuzione allora questa è un'altra follia se noi riuscissimo a fare queste riforme a costo quasi zero e a rendere il nostro sistema fiscale quindi più equo diverso se vogliamo dagli altri che non rispetta la logica europea ma quanto potrei quanti investimenti potremmo attrarre lo so sono scelte sono scelte un po' come dire sono dei sogni un po' diciamo la verità ma noi siamo fatti anche per questo dobbiamo affrontare con coraggio il mondo che ci aspetta e del resto io concluderei con una frase che era dello storico Tucidi del vissuto nel 400 avanti Cristo che è il segreto della felicità è la libertà e qui siamo tutti d'accordo ma il segreto della libertà è il coraggio quindi spingiamoci con coraggio a fare proposte innovative grazie Giusy grazie Giusy allora adesso un intervento importante per noi perché interviene il presidente del comitato Jan Palak giovanissimo 18 anni 18 anni 18 anni ci ha meravigliato tutti già quando lo abbiamo sentito all'ora d'aria spero che stasera non si emozioni e possa dirci come mai e perché si sta impegnando con liberisti italiani 18 anni vai Gianluca salve a tutti salve a tutti salve a tutti per prima cosa per prima cosa ringrazio Andrea Bernaudo per avermi dato la possibilità di fondare il comitato Jan Palak ok ecco allora per prima cosa ringrazio Andrea Bernaudo per avermi dato la possibilità di fondare il comitato giovanile Jan Palak secondo voi vorrei ringraziare tutti voi che siete qui oggi ad assistere a questa assemblea pochi secondi fa Giuseppe ci ha parlato di coraggio perché è quello che ci vuole per essere liberisti in Italia oggi per sostenere le libertà individuali le libertà economiche che sono affossate da decenni dalle politiche stataliste sbagliate di tutti quanti i partiti perché di questo si tratta oggi il liberismo in Italia non esiste la destra la sinistra il centro il trasversalismo se così vogliamo chiamarlo sono tutti quanti dominati dallo statalismo dal socialismo da queste idee che vedono lo Stato come superiore all'individuo che non esaltano le libertà individuali ma rendono egemo nello Stato nella vita delle persone ecco questo fondamentalmente a mio vedere si ripercuote moltissimo sui giovani perché i giovani in realtà non sono nient'altro che i contribuenti del futuro che gli italiani del futuro i cittadini del futuro e allora per fare il bene dei giovani bisognerebbe semplicemente rendere migliore la società attuale rendere migliore l'economia attuale aumentare il benessere e allora perché nessun partito lo fa perché nessun partito interessa perché tutti quanti i partiti spendono sempre più soldi pubblici in un'economia statalista e decadente questo fondamentalmente avviene per due motivi il primo motivo è nell'essenza stessa dello Stato e qui mi preme citare un grande economista francese ottocentesco Bastiat che diceva che lo Stato è la grande entità fittizia attraverso la quale ognuno cerca di vivere alle spese di tutti gli altri questa è l'essenza stessa dello Stato il politico quando agisce tassa necessariamente la caratteristica intrinseca dello Stato è la tassazione il politico tassa il cittadino espropria il cittadino e con i propri con i soldi appunto degli italiani oppure dei cittadini degli altri paesi spende quindi utilizza questi soldi per aumentare la spesa dopo aver fatto questo dopo aver fatto questo in particolare in ambito economico lo Stato chiede nuove tasse perché? perché attraverso questa ingente imposizione fiscale rovina il benessere del paese rovina l'economia del paese rovina i cittadini del paese e allora chiede nuove tasse illudendo i concittadini che il problema sia l'assenza di Stato quante volte lo Stato dice eh il governo è troppo poco assente nelle vostre vite e questo è il problema ma in realtà il problema è il contrario il governo deve essere meno presente nelle nostre vite non più presente lo Stato è quell'entità fittizia riprendendo Bastia che tasse i cittadini e li illude di poterli aiutare ma in realtà nulla aiuta i cittadini di più della libertà la libertà è l'essenza fondamentale di una società efficiente che garantisca il benessere di tutti la maggiore felicità per tutti quanti i cittadini in chiave utilitaristica è questo però c'è un secondo motivo per cui questo accade per cui c'è un'egemonia statalista e questo motivo è l'egemonia culturale durante la rivoluzione americana i coloni americani hanno lottato contro l'Inghilterra per liberarsi dalle ingenti tasse e dalla mancata rappresentanza poiché l'Inghilterra tramite politiche mercantiliste imponeva agli Stati Uniti un'economia altamente protezionista gli americani si sono ribellati e nel 1776 hanno fondato gli attuali Stati Uniti d'America perché in Italia non accade perché in Italia c'è fondamentalmente un problema culturale gli italiani non condividono una cultura liberale perché in politica non gli viene proposto nulla che abbracci realmente la libertà non hanno delle proposte liberali liberiste o libertarie come invece proponiamo noi di liberisti italiani esattamente condivido in pieno il liberalismo in Italia c'è stato soltanto con la destra storica che però si è limitata al nord Italia perché invece dopo la destra storica con De Pretis Crispi e tutti quanti gli altri si è tornati al regime statalista che vigeva precedentemente quindi mi preme anche ricordare che nel 500 nel 1500 l'Italia fu l'unico paese europeo escluso dallo sviluppo del cosiddetto precapitalismo è stato l'unico paese europeo che non ha avuto questo sviluppo come scusi ah si certamente il diciamo che quindi il problema fondamentale dell'Italia è duplice per prima cosa i politici non propendono per una riduzione del potere dello Stato ma non lo faranno mai perché i politici più lo Stato guadagna più ne ottengono beneficio quindi non chiederanno mai volontariamente di diminuire il ruolo dello Stato infatti come diceva Ludwig von Mises gli Stati diventano liberali soltanto quando ne sono costretti dai propri cittadini e quindi è questo che va abbattuto è questo che ci opprime quindi l'egemonia culturale ha creato una propria oligarchia come ha ricordato il presidente Bernardo nelle scorse puntate dell'Oradaria quindi lo statalismo in Italia costituisce un'oligarchia che è nascosta mascherata però è presente in tutte quante le nostre vite quindi lo statalismo è al centro della politica italiana domina i governi i parlamenti ma anche la società stessa bene tutti quanti i partiti come dicevo prima abbracciano in modo diverso lo statalismo e qui mi prego a fare una critica a coloro che oggi in Italia si definiscono liberali ma in realtà tradiscono i valori del liberalismo stesso e questi sono detti liberal-socialisti che grazie liberal-socialisti che specifico non sono liberali tradiscono lo spirito del liberalismo l'Italia è l'unico paese in cui esiste il termine liberismo trovate un sinonimo di liberismo in tutti quanti gli altri stati non esiste esiste solo in Italia perché in Italia liberalismo e liberismo sono considerati due concetti separati invece noi siamo qui per dire a tutti voi che il liberalismo senza liberismo non può esistere il liberismo e il liberalismo sono due espressioni differenti una dal punto di vista economico e l'altra dal punto di vista politico delle stesse idee e non sono scindibili in nessun modo né il liberalismo dal liberismo né il liberismo dal liberalismo un liberale coerente è anche il liberista un liberista coerente è anche il liberale purtroppo in Italia molti che si definiscono liberali lo sono soltanto dal punto di vista politico e neanche tanto a giudicare dalle loro dichiarazioni quindi abbiamo liberali a favore del green pass a favore del salario minimo a favore della tassazione progressiva io esatto come Carlo Calenda e li definirei in una parola cioè in tre parole anzi dei grandissimi socialisti grazie 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 davvero ricordo 18 anni impressionante allora io adesso darei la parola a una persona che recentemente ha voluto sul mio invito e anche su invito della direzione allargare la nostra direzione Giacomo Canale che è uno dei più alti funzionari della corte costituzionale ed è molto importante il fatto che lui abbia deciso non solo di iscriversi a liberisti italiani ma anche di far parte dell'organo direttivo perché io credo che anche una parte del mondo del lavoro pubblico soprattutto in quei settori in cui il privato non può intervenire ad esempio quello della giustizia in maniera diretta siano anche loro vittima dell'espansione senza criterio dell'interventismo statale parastatale e dell'intermediazione dello Stato nell'economia e se oggi magari magistrati medici o altro sono sottopagati forse o oberati come nel caso dei magistrati di cui parlava Cristina forse anche proprio a questa assurda proliferazione dell'interventismo statale in ambiti dove invece dovrebbe non agire quindi con molto piacere do la parola al dottor Giacomo Canale nostro ormai sodale di movimento buonasera buonasera a tutti ringrazio il presidente per le gentili parole che mi ha rivolto esagerando perché sono certo uno dei più alti funzionari dell'istituzione cui appartengo e sono solo un modesto servitore pubblico inizio inizio questo mio intervento citando la battuta che avevo rivolto alla presidente e agli altri membri della direzione quando appunto c'è stata la riunione di direzione nella quale mi è stato comunicato che ero entrato a farne parte con lo stupore che un dipendente pubblico un funzionario pubblico diciamo si avvicinava e partecipava a un'associazione che per ispirazione ovviamente fa la sua priorità il tema della limitazione dell'intervento pubblico e della delimitazione anche dell'apparato statale in termini di tutela della proprietà privata che come è stato detto è anche un problema di giusto carico fiscale e io ho replicato con una battuta che in verità se ci si pensa i due più grandi probabilmente rappresentanti nella storia recente del pensiero e non solo del pensiero ma dell'esperienza politica liberista poi sono stati due funzionali pubblici che sono spesso qui continuamente evocati ci sono due comitati che sono a loro intestate ovviamente mi riferisco a Ronald Reagan e Margaret Thatcher cioè a dire due persone che hanno potuto inverare nella realtà fenomenica le loro idee che sono largamente condivise presumo in questa stanza nel momento in cui hanno avuto la possibilità di svolgere un ufficio pubblico ovviamente la carica la massima carica istituzionale politica dei loro rispettivi governi questo perché può essere interessante per noi perché si pone il problema che qui comunque qualcuno ha più volte variamente sollecitato io non farò un intervento tecnico su specifici temi anche perché il tempo è poco e non avrebbe senso anche di salora il presidente Morandi ha parlato più volte della necessità di avere amici alleati con il presidente Bennaudo più volte diciamo nelle nostre conversazioni abbiamo condiviso l'esigenza di avere diciamo un dialogo con aree culturali e politiche che possono essere affini su determinati temi nella consapevolezza delle inevitabili differenze e distinzioni questo ci mancherebbe altro mantenendo autonomia indipendenza senza quindi diciamo cedere alla tentazione di barattare tutto per un posticino non è questo il problema ovviamente ma c'è il problema che c'è la necessità di essere presente nell'istituzione affinché le idee di cui siamo portatori siano in qualche modo attuate nella consapevolezza che verosimente sarà necessario anche contaminarsi perché nessun soggetto politico almeno nel nostro ordinamento pubblico e noi abbiamo una lunga storia la storia repubblicana ormai abbiamo più di 70 anni cioè a parte forse la prima la prima no forse senza forse a parte la prima legislatura repubblicana non c'è mai stato un governo monocolore e difficilmente ce ne sarà nel prossimo futuro o posso anche sbagliarmi però non fanno nemmeno test i governi monocolore che avevano l'appoggio esterno che serviva per tenere l'invita perché comunque era una forma di partecipazione e di condizionamento delle linee politiche nemmeno forse l'Italia del 94 aveva i numeri per poter essere maggioranza assoluta nel paese non l'ha avuto nemmeno il movimento 5-6 nemmeno il centro-sinistra per cui è verosimile che bisognerà porsi il problema di trovare gli amici con cui ripeto nella distinzione culturale e valoriare si possa dialogare nella consapevolezza della sprezza della battaglia perché e concludo noi adesso abbiamo davanti un governo che ha poco più di 50 giorni di vita due mesi scarsi a tre mesi scarsi dall'elezione quando la scorsa legislatura in tre mesi non era nemmeno nato il primo governo contro e già è partito un fuoco di sbaramento allucinante su misure io l'altro giorno rifersevo un attimo a dire del merito su misure veramente marginali veramente stupide 5.000 3.000 10.000 e io condivido tutte le critiche che sono state rivolte qui ma anche fuori da torevoli esponenti giornalisti a noi affini per pensiero sull'eccessiva timidezza c'è stato qualche giorno fa un bellissimo articolo di capezzone che diceva questo è il momento per togliere il bonus invece di tentare di modellare perché se non riesci a farlo adesso che è la forza del mandato elettorale appena compiuto fra uno o due anni con l'auguramento continuo non aveva più la forza politica per provarla però io capisco anche le titubanze di un esponente che si trova ad avere un'occasione che credo non pensava che potesse mai avere in vita sua oggi festeggiano dieci anni fratelli d'Italia io sono sicuro se qualcuno dieci anni fa gli avesse detto guarda fra dieci anni sarebbe presente il consiglio si sarebbe fatto una grassa risata e avrebbe detto vabbè hai preso ha bevuto un bicchiere di troppo e in dieci anni invece è accaduto qualcosa di inaudito io non so se è più per meriti suoi o per demeriti degli altri questo poi ovviamente ciascuno di voi ha la maturità per valutare o come spesso accade una combinazione delle due cose e dunque io capisco la sua titubanza e concludo a non bruciarsi perché ricordiamo cosa è accaduto col primo governo Conte che era un governo che io sentivo distante perché poi i principali i programmi di economia diciamo non erano nelle mie corde la quota quota 100 di cittadinanza diciamo espressione di un assistenzialismo che ha le sue nobili origini però diciamo qui non probabilmente non gode della della condivisione più totale quel governo era attaccato con io ricordo la prima legge di bilancio è chiudo sembrava che dovesse venire giù in mondo che stesse arrivando un asteroide e cancellava per sempre la razza umana perché facevano la legge di bilancio aveva un rapporto dei vicini pilli del 2,4 e sembrava l'apocalisse poi fu costretto a scendere sullo 2,04 perché poi noi dobbiamo sempre trasformare tutti in farsa per cui doveva restare il 4 perché qualcuno forse riusciva a farsi subito dopo nella medesima legislatura dopo tutto ciò che è accaduto tutti già so qual è l'obiezione ah ma c'era la pandemia noi abbiamo viaggiato a legge di bilancio con il rapporto dei vicini pilli 9-10% e sembra e sembra cosa più quest'anno siamo al 5 al 4 e mezzo sembra naturale ormai e allora uno si chiede ma se era possibile fare per motivo eccezionale una legge allora forse 2,04 non sarebbe venuto giù in mondo era criticabile perché il 2,04 era per finanziare il reddito di cittadinanza e spesa previdenziale non avremmo magari preferito un intervento più su investimenti strutturali però e allora se viene attaccata adesso il governo per la questione del posto che fa veramente ridere perché chiunque di noi e la gran parte di noi che vive nei grandi centri urbani sa che non è un problema perché viene accettato ovunque il problema può essere nelle piccole realtà i paesini perché posso immaginare che se vado in Aspromonte c'è il paesino di 200 persone magari l'alimentare non c'è posto perché sono 200 vecchie pagano tutti in contante e magari perché devo avere posto ma io a Roma Milano Firenze Napoli Paremmo Torino io dubito che qualcuno abbia veramente difficoltà ad andare al ristorante e pagare con carta di credito o banco perché non è nemmeno nell'interesse dell'esercente la questione del bonus è finito del contante anche qui 2.000 5.000 euro sembra che sia una disposizione che scritta per tutti i grandissimi evasori per cui e concludo e probabilmente sarà oggetto sia delle prossime direzioni sia della prossima assemblea dovremo iniziare a ragionare a porci il problema ovviamente io sono l'ultimo il presidente e tutti gli altri membri della direzione ne sanno più di me a riguardo di cercare di interlocuzione ripeto nella massima autonomia ci mancherebbe altro anche di tipo funzionale adesso nel Lazio ma anche in Lombardia fra due mesi si porrà il problema dell'elezione regionale quindi di eventuali scelte da compiere però ecco di trovare degli amici con cui ogni tanto poter dialogare e confrontarsi e anche scontrarsi quando non ci sarà d'accordo cercando anche concludo davvero di favorire quei processi che ci sono pure in altri ambiti che non ci sono che non riterremmo lontani da noi ma che esistono anche qui dieci anni fa i toni attrantisti che oggi pone la Meloni probabilmente non ci sarebbero stati ed è un'evoluzione che va incoraggiata anche qui poi magari si può criticare che non ci sono atti concreti coerenti sempre con le intenzioni ma ci sono dichiarazioni in favore della proprietà in favore dell'apparato produttivo che dieci anni fa non ci sarebbero stati è tutto oro ciò che luccica assolutamente no io ho qualche capello bianco per sapere che politico per definizione diciamo non può essere considerato sempre l'emblema della verità perché di mestiere fa quello però sono delle cose che vanno non sottovalutate vanno anche incoraggiate ripeto nella misura in cui ovviamente vanno nella direzione a cui noi puntiamo cioè quello di una maggiore libertà personale economica e di pensiero e su questo concludo vabbè basta sulla libertà di pensiero io mi associo pienamente con l'intervento di Lorenzo che è sempre attento a una tematica è stata ripresa anche da attenti interventi mi scusi se non riuscito che è sempre più davvero pressante la questione della tutela della libertà di informazione in ambito delle grandi piattaforme tematiche grazie 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 Giacomo poi dopo vorrei risponderti sull'interlocuzione con gli altri partiti ma lo farò dopo in chiusura prendendo soltanto un minuto allora adesso direi Malvetani Francesco Luca Bernardini e poi voglio far concludere no? ok Malvetani Francesco e poi concluderà Santo Schidirò che è uno dei nostri giovani non mi sembra che ci siano altri iscritti che vi meraviglierà anche lui non so quanti anni ha se ne ha neanche 18 comunque adesso sentiamo la parola di un boomer velocissimo che ormai sei un boomer velocissimo Malvetani che però abbiamo già apprezzato allora Dalia vai che viene nella Toscana tante cose sono già state dette volevo solamente chiedere anche a Enrico Marinoni a Valluca Bernardini molti li conosco dai social Enrico inserire per lo meno nel nostro programma non solo il limite alla pressione fiscale ma anche alla spesa per interessi sono d'accordo in parte con Giussi è vero tagliamo le tasse ma qui siamo di fronte a una schiera di influencer i politici sono influencer tutti gli effetti che spendono e spandono per creare consenso a nostre spese e non si fanno problemi qui a Roma vediamo io ho iniziato a seguire Andrea quando si presentava come sindaco di Roma ma i grandi sindaci che ancora scrivono i libri Rutelli i grandissimi Beltroni la città dello sport centinaia di milioni di euro sperperati per cose inutilizzate loro non si fanno problemi non è che sono i bambini che se gli lagli la paghetta non li spendono loro attingono a debito sperperano distruggono i comuni i comuni in distesto finanziario io sono di Terni anche su Terni il PD ha fatto disastri quindi limite sia alla spesa e al prelievo fiscale ma anche alla spesa per interessi tu puoi fare quanto debito vuoi se sei un paese credibile ma il limite alla spesa per interessi ci deve essere dobbiamo paragonarci agli altri paesi Germania Francia noi siamo quelli che spendiamo il doppio il triplo per gli interessi quindi uno quello anche la spesa per gli interessi perché non si fermano a spendere soldi e evasione fiscale verissimo diciamo anche che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha l'IRAP anche su quello l'Europa diceva anche l'Europa diceva tagliate l'IRAP perché ha la stessa base imponibile dell'Iva da quell'orecchio non ci sentiamo per altre cose ci dobbiamo allineare a quello che dice l'Europa l'Europa dice ma guardate che state tassando il ricavo non l'utile quindi poi il dato va letto anche in quelle dimensioni quindi no 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 dopo se vuoi Coluzzi se vuoi dopo puoi replicare se vuoi dopo puoi replicare però perché se no perché c'è la radio radicale c'è la radio radicale lo dico ogni nuova tassa è una perdita di benessere a livello sociale il prelievo di una tassa crea una perdita di benessere che è maggiore del gettito della tassa allora il politico dice sì lo so in realtà non so quanti lo sanno va fatto per ridurre le disuguaglianze per fini buonisti va benissimo non può essere fatto all'infinito cioè se io creo un danno cioè il costo è maggiore del beneficio fino a un certo punto ma quando una nuova soluzione dice bisogna fare una tassa bisogna fare già sappiamo che è la risposta sbagliata concludo grazie grazie Francesco mi dispiace siamo arrivati così tardi avremmo voluto un tuo intervento più lungo io adesso direi di far concludere perché Luca Bernardini ha deciso di non intervenire e questo mi dispiace di fare intervenire santo schilirò per la conclusione del dibattito prego scusa quanti anni hai? ecco dopo dopo aver ascoltato il ranucci 18 anni adesso sentiamo santo 16 anni prego tanto vi ringrazio per l'attenzione che mi state dando vorrei aprire il mio discorso con un addendoto l'altro giorno discutevo con mio padre noi spesso discutiamo di politica e a un punto a lui è uscita la frase eh ma liberismo è una brutta parola e allora questo mi ha fatto mi ha creato uno spunto di riflessione che già c'era da tempo la necessità di sdoganare la parola liberismo qui in Italia perché è assurdo il fatto che venga vista addirittura come una brutta parola non so se ce ne rendiamo conto noi diciamo di agire come clandestini ma anche questo non è normale perché agire come clandestini significa riconoscere che liberismo è riconoscere come una brutta parola e per non agire come clandestini è necessario rendere il liberismo una bella parola almeno lo è già ma bisogna farlo capire perché insomma parliamoci chiaramente è una cosa assurda questa divisione che prima Gianluca appunto enunciava ed è assurdo che sia così tanto mal vista soprattutto a livello culturale io vado alle superiori sono al terzo anno di superiori e vi posso dire che in questi anni a scuola ne ho viste di cotte e di crude praticamente di tutti i colori perché vi è un sistema che parte proprio dalla prima infanzia in cui si tende a inculcare agli alunni ai ragazzi ai bambini il fatto che il governo dall'alto lo Stato arrivi e ti dica cosa puoi fare cosa non puoi fare che ti difenda possiamo dire così quando in realtà io vorrei citare Ronald Reagan lo Stato è come una macchina e noi il popolo siamo il conducente diciamo alla macchina dove andare e a che velocità andare e la macchina la macchina logicamente risponde a noi non è il contrario non è assolutamente il contrario è questo fattore culturale necessario che venga sradicato anche a livello economico io a riguardo vorrei citare Montesquieu che nello spirito delle leggi enuncia un concetto molto molto attuale la disgrazia in una repubblica ma io lo estenderei in uno Stato è quando non ci sono più brogli e ci avviene quando il popolo è stato corrotto col denaro si raffredda si affeziona all'oro ma non si affeziona più agli affari senza preoccuparsi del governo e di quello che vi si propone aspettando tranquillamente il suo salario e diciamo non c'è bisogno di dire a chi mi riferisco credo sia abbastanza chiaro no? e quindi la mia missione in quanto giovane e in quanto studente è quello non di inculcare l'idea del liberismo perché altrimenti sarei come loro sarei come chi indottrina no la mia missione ultima è quella di aprire la mente alle persone giovani e meno giovani chiunque per fare in modo che ragionino con la propria testa perché se noi non ragioniamo con la nostra testa allora si finisce così aspettiamo il nostro salario siamo contenti e finisce là in maniera molto spicciola ed è quello che io intendo fare a Catania la mia città pur essendo da solo è difficile? assolutamente sì non è assolutamente possiamo dire non è assolutamente semplice farlo ma è quello che io mi propongo di fare per l'appunto ho concluso grazie grazie bravo bravo complimenti a questo punto diamo la parola al presidente Andrea Bernauto per le conclusioni della nostra assemblea adesso siamo rimasti in famiglia diciamo perché dopo quattro ore di dibattito sono rimasti diciamo veramente forse quelli che stanno dando più corpo a quello che facciamo e i più resistenti diciamo così però dopo le parole di questi ragazzi Diego anche giovanissimo Cristina che comunque sono giovani e poi questi ultimi Narducci Schilirò Ranucci scusami Schilirò il presidente del comitato di Iampala queste sono le ragioni per cui noi andiamo avanti sostanzialmente che questi ragazzi ci hanno intercettato per curiosità alcuni durante la campagna elettorale per il sindaco di Roma perché perché durante e io questo lo voglio dire a proposito della clandestinità durante la campagna per il sindaco di Roma noi abbiamo speso qualche soldo pochi perché forse dovevamo spendere di più è stato un errore quello su una piccola campagna ma poche centinaia di euro una piccola campagna facebook su alcuni nostri post che avevamo fatto voi sapete come funziona se tu paghi la piattaforma ti apre la platea delle persone oltre quelle che tu raggiungi in maniera organica cioè oltre a quelle che hai già raggiunto perché li hai intercettati personalmente quindi che cosa è successo attraverso questa sponsorizzazione di questo post alcuni giovani tra cui Ranucci ha visto di cosa parlavamo ne è rimasto meravigliato perché probabilmente un linguaggio del genere non lo aveva mai ascoltato in Italia diffidenti come devono essere tutti quanti i giovani rispetto a quello che vedono ha preso informazioni su di noi questa è la storia che io ogni volta che qualcuno si iscrive al movimento cerco di capire come è arrivato a noi e dopo averci seguito per un po' alla fine si è iscritto a Liberisti Italiani e io gli ho chiesto di riprendere in mano il comitato Jan Palak e di dare corpo al movimento studentesco io più che movimento giovanile lo chiamerei movimento studentesco anche vedendo quello che sta succedendo in Iran piuttosto che in Cina sono sempre gli studenti è sempre da lì che nascono le vere rivoluzioni quindi è fondamentale avere non una quota la giovanile come la chiamano i partiti che poi spesso qui sono più vecchi dei loro dirigenti adulti e ne fanno una questione di carrierismo e di lavoro ma avere un movimento giovanile che parli nelle università è fondamentale e questo fatto che loro si sono iscritti e che hanno dato corpo e che stanno continuando a farlo a questo movimento studentesco è una delle ragioni per cui io noi altri quando magari ci viene uno scoramento per l'oscuramento doloso da parte dei mezzi di informazione di quello che facciamo però decidiamo comunque di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di andare avanti perché caro presidente del comitato Jan Palak noi altri qua ci abbiamo ancora 16 anni ci abbiamo ancora 20 anni se no non stavamo qua adesso quindi siete voi che dovete mantenere questa purezza e non vi dovete far corrompere noi altri avendo fatto quello che abbiamo fatto vi abbiamo già dimostrato di essere incorruttibili e volevo anche dire a a Giacomo Canale che dice che noi dobbiamo interloquire con le altre forze politiche io sono stato dieci anni dentro Forza Italia sono stato un consigliere regionale eletto dall'allora PDL conosco tutti ci conoscono tutti siamo sempre stati noi i primi a chiedere di collaborare a chiedere di lavorare insieme per migliorare questo centrodestra e renderlo più liberale più moderno meno simile alla sinistra la risposta è stata a Roma amichetti le risposte sono state spesso il plagio dei nostri argomenti e qui molti lo sanno cioè cose che noi dicevamo successivamente le abbiamo sentite dire da alcuni esponenti apicali di questi partiti politici senza che mai nessuno di questi abbia mai riconosciuto il nostro impegno e il nostro lavoro abbiamo recentemente ospitato il capogruppo al senato di Fratelli d'Italia che non sarebbe mai venuto da degli sconosciuti io posso dare del tuo almeno a tre quattro ministri di questo governo e allora come mai che non c'è un'interlocuzione l'interlocuzione non c'è non perché noi non vogliamo avere un'interlocuzione con le forze politiche del centro-destra ma perché al momento c'è stata da parte di Costoro la negazione del nostro impegno il mancato riconoscimento di noi altri come un soggetto politico organizzato questo è noi saremo ben lieti di poterci sedere intorno a un tavolo con queste persone senza nessuna pretesa di annessione loro da parte nostra ma per cercare di intavolare una piattaforma di contenuti di piccoli contenuti magari per noi piccoli devastanti per l'Italia però se non c'è il rispetto e il riconoscimento del nostro impegno diventa difficile per noi poterci confrontare ma non siamo noi la causa e non siamo noi a non volere questo confronto anzi io spero che con persone come te e altri anche che hanno come il nostro Presidente onorario che hanno rapporti oltre a quelli che posso avere io e altri con Costoro nasca un confronto però deve essere un confronto rispettoso io credo come più volte mi ha ricordato Angelo Canini che invece questi non ti regaleranno nulla e finché noi non avremo una struttura e un bacino di scritti e diciamo un potenziale aggregato di un certo tipo noi non avremo nessun possibilità di interloquire con questi perché preferiranno sempre non riconoscere la nostra esistenza e che non fa comodo oggi immaginare che esista un partito liberista oggi Fratelli d'Italia si sente la casa dei liberali e delle partite IVA ce l'hanno proprio detto fino a ieri Berlusconi era il leader maxi leader liberale italiano la Lega è stato per molti anni il partito delle partite IVA del Veneto ce l'ha ricordato oggi l'ex assessore che stava con Zaia e così via per cui che motivo hanno politico di riconoscere che c'è un partito liberista in Italia si tratta solo di scippare questi contenuti farli diventare retorica e propaganda annaquarli e poi nella reale azione di governo non metterli in pratica questo è quello che purtroppo fino adesso noi abbiamo visto fare da Berlusconi speriamo di non doverlo riscontrare anche in questo governo che giustamente oggi non si può giudicare perché sta in piedi da pochissimo tempo e quindi noi siamo gente seria non possiamo dare un giudizio definitivo però da parte nostra c'è la volontà di dialogare con il centrodestra abbiamo detto in tutte le lingue ci abbiamo provato in tutti i modi fino ad adesso le risposte sono state zero se non quelle di una partecipazione da alcune nostre cose e di interlocuzioni di carattere privato noi siamo disponibili a confrontarci io vi ringrazio tutti soprattutto gli ultimi che sono rimasti noi andremo avanti qualcuno mi sta chiedendo qualcuno anche che è venuto degli ambienti vicini al centrodestra che sanno che noi comunque su Roma abbiamo preso mille zero quarantasei voti e poi questi io li vorrei abbracciare uno per uno perché sono degli autentici iniziati quelli che ci hanno votato ma quindi sanno capiscono che dietro c'è un potenziale anche elettorale no? perché se mille e quarantasei persone hanno votato un partito clandestino di una persona in mezzo a 22 che non sapeva chi era da dove veniva che non ha avuto nessun tipo di come dire presenza e visibilità nei mezzi di informazione è chiaro che inseriti in un contesto di un partito mainstream quei mille e quarantasei voti potrebbero diventare molti di più quindi già quello che qualcuno ha ricordato si sta verificando cioè ci stanno cominciando a dire ma voi che fate alle prossime elezioni regionali chi sostenete le prossime elezioni regionali perché non mettete candidati alle prossime elezioni regionali perché non ti candidi in qualche lista del centro-destra magari in qualche lista civica il nostro problema il mio problema ma quello di ognuno di noi è che noi veramente facciamo politica per raggiungere degli obiettivi alti ora è chiaro che questo può anche passare attraverso compromessi di questo tipo però c'è una dignità da mantenere cioè noi non possiamo nasconderci dietro una lista civica per anacquare il progetto dei liberisti italiani non possiamo farci annettere ecco perché a Roma ci siamo presentati da soli come liberisti italiani dopo aver proposto più che la mia candidatura il nostro programma al centro-destra e la risposta è stato un programma opposto a quello che proponevamo noi noi siamo disponibili adesso a Milano ad esempio c'è il problema del terzo polo cioè c'è il problema della Moratti che ha aderito al progetto socialista di questo si tratta di Calenda neochienesiano di Calenda e Renzi chiaramente questo a noi suscita un interesse perché lì c'è un problema c'è un problema di non legittimare dal punto di vista liberale e dal punto di vista liberista quello per azione politica lì ad esempio cosa che invece altri stanno facendo cosa che invece e noi non lo faremo mai perché quelli lì di azione Italia Viva sostanzialmente sono forse gli avversari più insidiosi per noi perché sono lì dove dovremmo stare noi e non a caso hanno goduto come abbiamo visto della totale partecipazione del circuito televisivo e della grande stampa in maniera incredibile hanno pompato questa figura quando Calenda quando non aveva neanche un deputato e quando lui stesso era stato eletto dal PD e aveva aderito al partito dei socialisti europei quindi senza avere una identità politica un movimento politico gli è stato dato l'onore di essere l'unico candidato a sindaco di Roma per un anno intero in tutte le televisioni pubbliche e private e questo ovviamente gli ha consentito perché ci hanno ricordato qui Mancia ce l'ha ricordato Ruggeri ma è ovvio nel 2022 questo gli ha consentito di farsi il partito perché chiunque sta in televisione per 365 giorni in anno in prime time o in seconda serata su tutte le televisioni è in grado di farsi un partito poi in più se sai anche leggere e scrivere e non sei diciamo a un livello come dire pessimo di cultura e ogni tanto ne imbrocchi una è facile che in questo deserto dove c'è un buco lì dove siamo noi cioè nell'area liberale una forza come quella di Calenda e Renzi possono diventare un partito anche a due cifre e questo succederà perché hanno fatto riempire quello spazio politico che è il nostro spazio politico che è lì dove gli italiani vorrebbero andare cioè verso una liberazione dello Stato dalla pressione da una liberazione dei contribuenti dalla pressione dello Stato e da tutto quello che abbiamo sentito qui i liberatori diventano Renzi e Calenda l'alternativa l'alternativa agli altri diventano Renzi e Calenda questa è la costruzione del mainstream questa è la costruzione che abbiamo visto proprio palesarsi nell'arco di due anni come si costruisce una forza politica da niente ti diventa un partito a due cifre come aprendo aprendo le porte della RAI di Mediaset e facendo in modo che uno possa dire quello che vuole ogni giorno non a 20.000 persone perché noi abbiamo fatto dei calcoli noi oggi parliamo a circa 20.000 persone in Italia tra i vari social che abbiamo le risorse che abbiamo aggregando tutto diciamo non parliamo arriviamo arriviamo a un potenziale di 20.000 persone a Roma non lo so quanti ci conoscono forse qua 6-7.000 di questi 6-7.000 1.000 ci hanno votato una percentuale enorme rispetto a quelli che noi abbiamo effettivamente raggiunto questa è la realtà dei fatti oggi la politica purtroppo si misura e anche il successo di un'operazione politica da quanto tu sei presente nei media nei media degli ultimi due anni uno dei più presenti è stato lui Carlo Calenda che ha invaso la nostra area profittando della debacle di Forza Italia e anche del deficit liberale che c'è in questo paese proponendosi lui come il liberale abbiurando il liberismo perché lo ha abbiurato dicendo che è stato un errore giovanile e proponendo il liberale socialismo dove noi abbiamo oggi gente come Santo a 16 anni o il presidente del comitato Jan Palak che ti dicono chiaramente che non puoi essere liberale e socialista non puoi essere liberale e socialista ma se sei liberale per quanto riguarda la giustizia e l'istituzione non puoi che essere liberista in economia questa banalità oggi non è patrimonio politico in questo paese oggi la forza liberale in questo paese che sta usurpando la nostra area è quella lì ecco perché dobbiamo continuare e cercare di fare in modo che questa usurpazione non prenda piede a partire dalla Lombardia ecco lì si può fare un ragionamento se il presidente onorario vuole farlo ci aiuta a farlo vediamo su Roma quello che succede però deve essere chiaro che il primo passaggio per poter parlare con noi è riconoscerci in quanto liberisti italiani non vengono a parlare con Andrea Bernardo devono parlare con liberisti italiani grazie amici e per chi vuole andiamo a cena ce l'abbiamo fatta dai